Sì, sono in live Ciao a tutti Perfetto Siamo qui Con il rumore del microfono Ah, mi sentite, perfetto Ok, perfetto come riuscire si è rotto il cazzo di fare l'artificere è ribellissimo a posto così nel pattuglia guest auto vediamo la città che dopo ha chiamato la nazione Michelle Smith la città è aperta si è data la sposta ciao nonno nonno data ciao sergente wilson si ti dicevo nell'ultimo criminale schietato nelle note potresti fortesemente aggiungere verso chi ha fatto il crimine 10-4 grazie mille gentilissima Waves deve allontanarsi un attimo dalla città dopo Waves aggiunto grazie mille wilson grazie mille ok qui eccomi ciao Dominic ciao Dominic mettiamo l'autopenox qui sergente soprano stiamo facendo un trap stop vicino all'armeria 10-4 10-4 sarò in zona mi vedo del nonno nonno ok nonno ma nonno nonno qui ha da molto traffic stop completato 24 non ho visto un traffic stop lo superato siamo troppo bravi a fare traffic stop margine ok C'è una macchina che appena mi abita inizia da fare. C'è una macchina che appena mi abita inizia da fare. C'è una macchina che appena mi abita inizia da fare. C'è una macchina che appena mi abita inizia da fare. C'è una macchina che appena mi abita. Ma che cazzo... ... 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 forse è vero salve ma che cosa sta succedendo salve come stai? bene dai un abbraccio guarda dietro guarda che gioca che c'è la fate prendere una birra si sta cartacciata ma io lo tostargo buonasera ciao comunque stiamo controllando una nuova sigla di palpa entriamo ora subito guarda bene cosa c'è scritto esattamente qua sopra guarda esatto esatto salto del fede no scordatelo no vai lanciati su sofia poi se sopravvivi buon per te no sofia è incinta provaci sofia schifale da lontano ma che cazzo no come è fatto l'ha presa veramente l'avevo fatta a prenderla era un po' no ma che cazzo no ho fatto vabbè buon edizione ciao sono in live è bisogno di aiuto sofia basta 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 sofia 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 calma sofia sofia mi dovresti un passaggio fino al centro no si siano non esci amore non so come facessi yoga 100 dollari manca poco stavo contando riflettori sopra perché mi sono dimenticata di ritirare non ti preoccupare non c'è problema tutto bene dopo prendiamo il tiro sì dai meglio sta bene sta migliorando hai visto l'annuncio del yellow jacket sì l'ho visto sono già andate a controllare io non sono mai stato il posto io ancora ma quindi c'è successo che non è stata ancora in che senso e c'è stata no no non c'è nulla c'è stato abbiamo controllato tutto pulito dove scappi? è che sono le 21 e 40 è normale secondo te come stai? io eh sì sono ancora in piedi guarda ma c'è nebbia tieni bevi questa è un altro annuncio un po' strano però con le nostre io mi ho promesso che mi vieni a trovare ma che? se non era sempre l'altro carlo me lo è andato ma eh quello si trasfito per lavoro in nostra città andarci mi vabbè sergente? sì salve ma con i contratti ha fatto? ah con i contratti eh un attimo solo che devo leggere il link e l'avevo preparato con il procuratore ah ok comunque mi stia caravando bene però adesso mi stia caravando bene nani? ok dimmi non è attivato cosa hanno introdotto di novità nel server? tutto ok signori? niente 14 eh? ma perché mi ha caricato una cosa sul telefono 24 ok buono no idea ho caricato 5 megabyte sul gc phone eh scopo per questa cosa mi ha chiamato prima lì al yellow jack secondo me era un beta performare ma scusate ma le chiamate non si possono essere ok perfetto finite di passo i contratti cartace va bene adesso vedete già ci sono anche altro tempo diciamo che potrebbero essere utilizzata per distrarre la polizia quindi si può? si basta non fare tratti che può sparare la polizia o dovremmarvi la finale no no che sta succedendo? oddio aiuto che sta succedendo? ragazzi che è che la corda di Ocasio un po' eh esercente un po' di tosse ma ma c'è un camion che vuole entrare dentro il 3k meglio cosa? bene ok sono in giro e a chi ho passato il foglio per sbaglio? però non li chiediamo supporto ah ce lo io ho anche la donna a me minchia sto qua ah c'è Falcon dimmi è proprio è 2 oscure per favore no non porta a dire Falcon a questo mi ha detto la spina sarà alla spina o in bottiglia? no ringrazio alla spina ok ok tutti te si si tutti tutti grazie ciao Greg grazie Doki ti sto mettendo qua vabbè signor io vado buonasera a tutti buonasera a te te le vado a prendere un attimino la procuratrice ha detto che va bene a posto non c'è più mi ha detto che di coglioni per ora ma non è esatto beh ti sorrottiamo stai tranquillo mi ha detto che è stato un attimino mi ha detto che è stato un attimino potrei prendere potrei prendere la moto garage ne ho una allora vai prendi quella stiamo in città poi raggiungo la città stiamo di portuglia insieme stiamo in città qui la città mi ha detto che è stato un attimino qui ad amuno tra più stop completato 10, 4 adesso gli annunci dove appaiono sul cellulare mi sembra no ma che ti stai dicendo questi aggiornamenti che non sono ancora che non esistono io ho visto degli aggiornamenti appena sul cellulare da una foto di qualcuno mi vedo più loro salve è su questa macchina? si si è la mia mi ha chiamato meccanico stavo chiamando infatti basta a rivederci a rivederci a me non ho paio sul cellulare vabbè sarebbe una cosa bella più rp ah ripetere niente boomer ok scusa 10, 4 numero 14 numero 14 ok 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 e facciamo un po' di controlli della velocità Grazie a tutti Controlliamo la velocità Che è che correvamo? Stiamo eseguendo un felony E richiediamo assistenza vicino al punto di marijuana segnato in GPS In vendita? Una battuglia, sì Arrivo, sono vicino al suo posto Grazie Corre c3, corre c2 Corre c2 Non vedo chiamate Non ho capito Tra 106 e 118 Ok È arrivata una chiamata In arrivo, un'altra e mezza Dov'è? A nord o a sud? Dov'è, vi trovate? Ok, sono qui Siamo, eh, ok Gira d'intorno Gira d'intorno Tra 106 e 118? Esatto, sono già lì Dove sei tu? Vedi, ci sono pure io Dove sei, H? Siamo anche noi Siamo di fronte al valutato Io mi stavo cambiando Adesso arrivo in moto Vedeteci voi Dove possiamo intervenire Ti sei messo la divisa? Sì, io ho la divisa Ok, arrivo per venerti in centrale Arrivo in macchina No, no, vengo poi di centrale Vengo poi a venerti Sto a rinfuori dalla centrale Sì, sì, ma sono a nord Ah, ancora a nord Aspetta che arrivo Eh, sì, mi devo cambiare Adesso, aspetto Capitano Mi trovo a 200 metri A voi ferma Mi vado Io vedo l'ingresso L'uscita laterale Assolutamente Non appena Grazie. 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 Ok, controllo finito, adatto 4, si risposta. 10-4. Vi chiede una battaglia che possa controllare costantemente la zona di Wionwood o in altri healer. Dicidete voi se lo andiamo con noi. Qui ad Amuro ci pensiamo noi. Prima passiamo dall'autorepave. Noi andiamo a controllare i punti a nord, dai. Io riapro lo Yellow Jack e poi subisco. Puoi dire riapro lo Yellow Jack? E' avuto un annuncio presumibile bomba. Abbiamo fatto un controllo con l'Arctic Airways. Era un po' sotto controllo. L'ho comunque tenuto chiuso mezz'ora per precauzione. Un sub di voi è in autostrada. Si, io sono io. Capitano? Si. Ma... La roba degli elicotteristi. Scusami, non ho capito. Di ASU. Si. Chi sono? Sono quattro persone. Sono... Se ne dovrebbe occupare Winson. Chi sono Winson? Poi... Sì, avevo già parlato io capitano. Devo parlare con un'altra persona. Stiamo muocendo un cieco. Sono una persona che ha fatto un incidente nella strada. Un attimo. Certo. Per i chiarimenti se parano o vieni in centrale. Eh, non ho capito. Per i chiarimenti riguardo all'ASU vieni in centrale. Chiarimenti di cosa? Eh... Questa parla via radio. Non... Non chiamo di ottenere radio. Cedi a me in centrale. Eh... Che cazzo ti ho detto, porca mese. Quindi chi sono gli ASU? Allora... Il problema è questo. Per l'ASU siamo... Io... Te... Miller... E... Murphy... Benjamin. Però voleva diventarlo anche soprano. Però... Tu usi poco l'elicottero, bene o male. Icarus sono da chiedere a te se... Cioè, aveva chiesto se io potessi parlare con te. Per chiederti se volevi lasciare il posto o meno. Adasta soprano. No, io non lo vorrei lasciare, sinceramente. Adesso ne parliamo con soprano. Perché così pochi posti, scusa? Quattro e quattro, otto posti totali, come sempre. Quattro sceriffi, quattro forzi. Io sapevo che i sceriffi erano uno in meno di... Almeno. Eh, ma ci erano già quattro assegnati. Quindi senza niente dire nulla. Ma cazzo loro? Cioè, essendo proporzionalmente... Cioè, la polizia è la più grossa. Eh... Non c'è una vera e propria regola che dica questo. Ciao. Ciao. Wilson? Sì. Vieni. Carmen, non bisogna? Eh... Eh sì, appunto. No, no, sono neanche mai presente. Ah, ok, però parlatemi con... Sì, vada, vada tranquillo. E vieni in ufficio del Capitano. Aspetta qui... Sì. Tu, Alcanzano, vieni qui in ufficio. Aspetta, un Brod, è una grande di radio. Beh, assoluto, non so, neanche tanto presente. Cioè, non ha senso dagli unit 4 a loro, capito? Eh... Ne parliamo adesso. Beh, bisogna parlarne. Cioè, non è che per star zitti. Il Chimena non paga mai, ma... Ma... Micropono disattivato. Allora, soprano. Gli ASU e attualmente sono... Eh... Noah Miller, Benjamin Murphy... Io... E il collega Broadway. Sono il massimo numero consentito per avere l'ASU in polizia. I scelifili... Se non gli scelifili erano già 4, non le 4, poi hanno 8 totali. Ok. Con questo, il capitano mi aveva chiesto che gli sceliffi sono già tanti. Cioè, già quattro. E, bene a male, non c'è stata ancora nessuna regolamentazione riguardo a quanti chi e quanti quali. Ecco, ho capito. Cioè, sceliffi e polizia non si sa bene ancora quanti massimo si possono avere. Non serve da parlare con lo sceliffo, ma... Lo sceliffo è più... Non si vede mai. È occupato, sì. Ehm... E quindi, per attualmente... Quello che sarebbe questo. O Broadway lascia a suo posto, dato che l'abbiamo visto poche volte sull'elicottero, e se lo prendi tu... No, io non voglio dire niente... Cioè, non mi voglio elogiare, però... Cioè... Io in cielo ci volo, praticamente. Cioè... Mi sembra un po' un'azione illogica il fatto che... Ma... Non era una battuta, questo. Eh... era che... Cioè... Io ci sto giorno e notte in cielo so come pilotare. E non è che dici magari sono il principiante che arriva di turno. Com'è noà ci sono anch'io nella Ross Santo Seagulls. E utilizziamo anche elicotteri ogni tanto. Però, vabbè, non è cosa che compa게 a me scegliere. Io ti sto solamente dicendo che... Boh, io potrei essere anche utile... il capitano ha detto questo ha detto parlare con il comodo e soprano ma me non mi interessa c'è io mi chiedevo andare da proprio a dire senti fammi spazio a me così rimane per ora adesso rimane così come è tutto stabilito su carta no però aspetta aspetta bisogna discutere perché a me non mi pare giusto che gli sceriffi abbiano i stessi numeri parte che non sono pochi di numero e poco presenti ma perché dobbiamo dargli i posti di aso io sinceramente loro non li ho mai visti in aso a parte luigi e cassandra infatti questo lo so però sarebbe da parlare con lo sceriffo non c'è da parlare con lo sceriffo lo sceriffo deve capire che deve mollare i posti già tu già due che ne ne diamo secondo me che proprio loro sono manco i quattro online servizio servizio non sono nemmeno loro il servizio cioè non sono manco i quattro il servizio ma perché tutti sti aso a loro c'è ma da dove lo so bisogna parlare con lo sceriffo io mi cooperò di avere un contatto con un altro comando della sceriffo però finché non ho il nome di letto massimo si chiama il cognome smith 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 con nordarsi e neanche lo sceriffo io non potrà farci nulla ma appena vedrà l'ora io dico ultimamente ultimamente sono in servizio e via radio ne vedo veramente non vedo neanche quel numero la via a me sinceramente non mi non mi interessa non mi interessa che chi c'è o chi non c'è a me interessa che chi ha l'asu sia presente perché non voglio se ho bisogno di un insegnamento e ma anche il fatto che non è che dici c'è un insegnamento dell'elicottero proprio pattuglia fissa che ogni tanto si dice quando siamo i 6 o 7 2 si staccano e prendono l'elicottero per questo c'è bisogna che ci sia che lo abbia l'abilitazione gente che attiva se parlerò però avrò un modo di poter parlare con lo sceriffo cercherò ma se ricordate alla via mail a vedere se avrò potuto parlargli entro oggi magari vi darò una risposta appena l'avrò avete comunque ragione siamo a muzzo di micchia quattro posti a loro che neanche dove c'è scritto qualche sono quattro posti per ogni dipartimento non c'è chiedere sulla parte questa è appunto di sarebbe regolamentare la cosa interna che i cittadini appunto è una cosa interna interna dei dipartimenti non potremmo discutere noi perché siamo polizia con il capitale l'alto comando e per stabilire ci siamo in 18 ma capisci che c'è certo ma non c'entra loro fai scusa una proporzione noi siamo in 18 massimo 18 massimo vabbè si potrebbe dobbiamo essere 18 massimo 18 fai conto magari 18 ne metti 56 ok capito però capisci che infatti non possiamo decidere per loro dove aveteci d'accordo diciamo e non succedendo decidiamo per loro voi siete sei meno di noi siete quindi a sto punto facciamo così a me non mi interessa a me non mi è fatto il cazzo decidere noi quanti posti appunto ma è quello ma forse non è capito ti sto dicendo decidiamo per noi parliamo noi con l'alto comando nostro e dc per stabiliamo siamo in 18 massimo di non essere siamo 12 quanti cazzo sia ce ne prestiamo vediamo sei massimo cinque non è che i sindaci della città di 5 e 3 sarepe le aree ma non neanche parlare con i sindaci è una roba nostro interno ogni dipartimento ne deve avere qualcuno perché allora se no abbiamo fatto fatto testa roba che può essere un dipartimento è uguale non è non è parla in sé perché non siamo un dipartimento unificato siamo due dipartimenti se loro sono cinque gatti non possono avere quattro asolo però questo a me non mi interessa non mi interessa il fatto che i sceriffi sono più aso che che pattuglie mi interessa che comunque noi dobbiamo vederci a noi non dobbiamo veder loro a squadre si fa presa si fa presente perché possiamo decidere noi per loro perché se non c'era stata successa ieri e io ti ripeto non sto dicendo di decidere per loro e sta dicendo per noi ma se noi siamo al limite ma detto che non c'è un limite ha detto c'è otto limiti massimo 30 nelle varie come le vecchie è un vecchio limite quando eravamo molti di meno quello è un vecchio quando quando in città si poteva stare in 32 è stato aggiornato e dove scritto è scritto nel regolamenti polizia lo conosco bene tesi e lo so anch'io non ho letto questo scritto lì e ancora scritto scusa market non lo puoi modificare o devi chiedere il consenso per a qualcuno qua no non penso che bisogna chiedere consensi e parla che scusa sarebbe prima da vabbè dai mi metto vado io in comune adesso riesci si vedi di farne mettere in proporzione a quanti dovremmo essere massimo esatto magari mettere magari 10 totale infatti dire infatti dare anche quanti massimo per uno quanti massi per l'altro si perché una volta una volta con 4 e 4 cioè con otto massimo non si poteva andare a polizieri in totale noi totale gli asus dovrebbero essere 12 perché 6 e 6 poi vabbè in base alla proporzione quanti siamo di più noi si siamo di più 12 12 in che senso in che senso cioè se siamo il polizia siamo tipo in 12 su 18 non è che mettiamo 67 asus ne mettiamo tre o quattro in base a quanti siamo in quel momento però un massimo di 12 e 66 a testa comunque si fa a parlare del governo 10 massimo 12 10 12 parato di cina si allora io ti faccio sapere in tre serata se c'è fatemi sapere perché si lo so ne ho fatto capitano poi ieri di questo si vuole lasciare il posto ma io gli chiedo di dire c'è non vado mica dire brodo e sentita lasciami il posto che so che bravo io cioè non è che non mi interessa e mi piace a me pilotare bla 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 se serve comunque sono bravo a pilotare l'elicottero e che dici non sono bravo però ne parleremo bene vediamo se si riesce sì se no no a posto allora parli anni e passione però di parlare il governo è veramente che cazzo tabaccheria cazzo ho recato una cosa divertita anche a detto così racconta risate qua in città noi ci salutiamo sempre alzando le braccia l'altro giorno sono entrato in tabaccheria ho fatto salve vorrei un pacchetto di visto un blu non ho capito non è una battuta proprio successo capito proprio successo io sono in testa baccheria o le mani alzate ci creda ti giuro e di conseguenza il proprietario ti ha attestrato un'arma detto questa è una rapina sì sì esatto e io gli ho dato i 5 euro se non mi ha dato il pacchetto di sigaretta brutta storia un attimo che compilo il porto d'armi del signore quanti ha su è un rinnovo ci sta ci sta pensando marques non da parlare col comune perché sono un po sface sono massimo 8 se ci sono due dipartimenti però questa roba quella è stata fatta quando in città si poteva stare in 32 quindi non si registra sì ma infatti bisogna fare 10 o 12 adesso capolinea anche io vorrei più tante capolinea che chiama risponde collega il rinnovo del porto d'armi non si aggiornano non funziona ma portarmi non si rinnovo rimane come non ti sento capolinea che cazzo c'è pronta stato sempre a polini siamo andiamo a vedere il suo lavoro a vederci andate a vedere alla posizione non tutti io non ci vado fa altro andate e quindi un ptp C'è uno che è uscito mascherato e poi si è recortato subito. Se ne fanno via, erano sopra un'altra Romeo rossa. No, andiamo. Infatti mi sono pagato addosso. Dobbiamo fermarla? No, adesso ne andiamo verso il concessionario. Vabbè, noi andiamo a un attimo di questa autostrada, ci sono state richiamate da capolinea, ma non parlava al telefono. Dov'è sta Alfa rossa? Ci eravamo vicino alla piazza centrale. Ah, no, si è fermato davanti a me, è uscito mascherato, ha fatto la pistola e poi si è recortato subito. Ah, ok. Dane? Si, si trovava la maschera? Sì? Adesso ne discute con lo sceriffo e gli ho chiesto se ci mette cinque a noi e tre a loro o no. Eh, ma ne hai parlato con lo sceriffo? Eh, non ci stanno... Non ci stanno sceriffi adesso. Mi scrivo il mio mail, mi scrivo il mio mail, un attimo. Mi scrivo a Gepero. Mi ha detto che ne parlava Ivan, però... Ah, no, adesso... Senti tu un attimo Ivan. Mi scrivo io a Gepero. Voi avete il contatto di qualche agente immobiliare? Perché? Dico, perché ci dobbiamo massacrarre noi a discutere ali? Conosco Popovski. All'agente immobiliare? Sì. Mi devi passare il numero? Sì, ok, se lo passo. O lo devi chiamare te? Lo chiamo per io, dimmi pure. Eh, gli devi dire che deve parlare con il capitano. Ok, a posto, lo chiamo. Cioè, dico, perché bisogna stare qua a litigare per un cazzo di posti in più e che se... No, ho sbagliato, ho chiamato io il canale. No, ok, non ce la faccio. Dove stai te di pattuglia? Io? Sono davanti alla centrale tra poco. Ecco, mi ha risposto c'è però. Volevo chiederti, vi ricorda, se era possibile... Dili che gli parlerà comunque anche Ivan questa storia qua. Era possibile patteggiare un conteggio di cinque asu a noi della polizia e tre a voi degli sceriffi, mi ricorda, essendo il numero minore a noi. No, noi. Ok. Cinque e tre, no, mi sembra un numero... Non mi sembra che sia un limitante per loro. Infatti, cioè, tre e tre d'altro sono bene. Poi di quanti sono loro? Sono in otto, cazzo. Ora, otto su dodici, nove su dodici, non lo savo. Emily! Ti dicevo? Capoline, hai detto qualcosa? No, non lo sentivo. Quante volte ha chiamato? L'ho chiamato, l'ha chiamato due volte ai servizi e una volta due volte l'ha chiamato a pila. Ok, abbiamo ritrovato la sua macchina abbandonata, rotta sulla carreggiata, poi della carreggiata. Lo sto provando a contattare al telefono, ma non mi risponde. Ah. Andà. Ci sono segni di attraverso per terra. Arriva sul posto. Negativo. E il posto è di fronte alla centrale dell'elettrica. Sì, sì, ho messo la posizione di prima, arrivo sul posto. Sì, però no, mi chiede di venire in 40.000 km. No, no, arrivo solo io. Eh, Dani? Che dite, ma mi è stato riferito schierzi, ha detto che ho trovato un posto di una sospetta cassa. No, eh, sono in live. Eh, vabbè, vabbè, qualcosa, qualcosa. Sì o no? No. Sospetta cassa. Negativo. Vabbè, ok, poi li parliamo bene. Ecco. Ascoltami, Dani. Dimmi. Ma cos'è, schiacciando un cos'è inquadramento polizia attitudine? Ma che cazzo ne so, è una roba vecchia. Le attitudini non so questa giornata e non so perché. Ma Ivan? Che volete? Cos'è, cos'è in attitudine personaggio inquadramento polizia? Niente, era una cosa vecchia. Era una cosa vecchia per gli stipendi. Questa, ti dava, il capitano ti dava l'XP e tu guadagnavi più soldi. Ah, ok, va bene. C'è tutto. Questa, è una cosa vecchia per la strisce nostra. Ah, ok. Allora, non si risponde. Eh, lo sto chiamando io da mezzo. No, non risponde. Eh, secondo me... Non lo so. Eh, allora, le avrebbe risponde. Però, l'ordine delle chiamate, adesso non so... Che... In che ordine erano. Però, le chiamate, sa... Era partita tipo una chiamata da qua. E c'era un'altra chiamata più in là, in fondo. La macchina è puntata dall'altra parte. Sì, però, dove è il conto cosa ha fatto tutto? Proprio che fa i due anni la gioco, forse. Può essere che arriva a una... Può essere. Ma è impossibile che abbia sbottuto in fondo. Dovrebbe essere più sfasciata la macchina. È proprio rotta, tipo che gli abbiano tirato dei calci, secondo me. Sembra di più così. Ma qua a destra c'è una botta. Comunque noi avevamo segnalato il pericolo sulla carreggiata. Eh sì, però... L'ho schiantato per quello. Secondo me, ragazzi, come qualcuno... Nelle peggio dei forti, se l'ha rapito. Poi è finito fuori città. Perché non risponde al telefono. Le chiamate che ha fatto lui, andavano per di là. Ha chiamato Wilson in privato. Proviamo a fare qualche per l'istrazione. Ma perché non ci sentivamo qualche sui servizi? Per quello, ma che non è privato, penso. E poi l'ho chiamato anch'io in privato, perché non lo sentivo. Non so. Io... Vabbè, niente. Vabbè, eh... Una bella illustrazione qui in zona, secondo me... Ma se c'era, andava su a cosa? Eh, la chiamata andava verso l'alto. No, niente. Fate... Proviamo a richiamare Capolini, vediamo. No, no, risponde. Ho chiamato... Ma va sequestrata, no? No, no, cioè... Ci sono già chiamati, vogliamo dire qualcosa. Portiamola via, però. Aspetta, aspetta. Sì, spostala un po' più indietro. Chiediamo un meccanico, facciamola portare via. Però non sequestiamola. Eeeh... Cos'è la fai? C***o, no, un tuo c***o pesa. È, ok. No, non risponde. Ah, scivolo. Si è arenata sulla... Sulla spagna. Panniamo se risponde il meccanico. Vediamo qualche coro. La spaghiamo Oh la si stanno a fermare un sacco di out Noi non l'abbiamo sentito Noi siamo davanti al comodo Quindi probabilmente era verso il comodo Cioè dipende se il comodo E quindi era verso il comodo Io vado a controllare Entriamo dentro l'attempo Sì facciamo un certo Vedo parecchie macchine Adam 1 Magari una barbita scarpurata Adam 2 è arrivato sul post Ieri era Adam 1 Siamo tra un entromino adesso Poi spregni la sirena nei pressi La gente che Insomma Si diverte ma chiedere qualcosa di così 10 quadri Long senti sempre si spari Long senti sempre si spari Perché dipende se c'hai la mod Questa è quella dei suoni Questa è una brutta Ma che erano quelle scaline alte là Ma qui c'è il Comunic Lab Non l'ho mai visto aperto Oddio c'è una macchina dietro Sto fanno proprio lì Hai vista? Sì sì lo so Ma sono entrati gli alti da dentro Qui Sono entrati gli alti C'è una persona Senza targa Senza targa E' una persona c'è Buongiorno Signore Signore mi sente? Qui è Adam 2 C'è un soggetto in un veicolo dietro il clima di club Vediamo rifare il controllo Vieni anche senza targa No ce l'ha la targa Comunica la targa subito Comunica la targa La targa della persona è 0,3,7, K,E, H Il signore non comunica Sembrerebbe non sentirci Tronto pesce Signore Signore Dici 4 Quattro pesce Sente Ok vediamo se che è lui Signore Signore Aspetta provo a vedere una Chi cazzo è questo che sta arrivando? Signore Si è vicinata alla jeep bianca Signore mi sente? Signore Mi dice vedi la jeep Affermativo Ora si Aspettate un secondo e sembra sai chi è signore e non lo riconosci chi è è totto cosa pesce si mi hanno riferito che sul geraggio che è lui è sulla macchina signore mi sente non so è qua è macchina ma non risponde non si è perso allora ascoltatemi un attimo ragazzi è arrivata una chiamata a noi si ci siamo fermati a noi stiamo entrati no no ascoltate è arrivata una chiamata al comedy non entrate non entrate non entrate dentro non voglio tutte le battaglie signore signore ascoltate è arrivata una chiamata non mi scelgo stiamo arrivando e quindi dietro al comodi per cercare di comunicare con il signor però non comunica signore comunica lei ma è quel punto che si è smesso di funzionare signore signore ma non può può essere così capitano ma ha risposto popovski ai messaggi si risponde mascherati mascherati dove dove posizione di posizione cosa succede gente mascherata col poter all'unno sui dove facciamo la chiamata che adamone interviene in codice 3 hanno spostato il corpo vede la gip a scendere da vinewood la fermo la gip scendere da vinewood fuoristrada c'è un fuoristrada direzione pacific bank che è lo fermo e ma ma piano lo fermo fermo dove senti ascoltami scendere l'arma è strappa ok allora due metton traffic stop an auto targata 898 phu che succede senza riservi senza riservi serve il supporto ancora non serve più supporto io sto rimando io sono sul luogo della chiamata l'agente salve buongiorno buongiorno che succede dov'è la chiamata Wilson dove sei salve non c'è più nessuno posso vedere per fare i suoi documenti ah dico Wilson dove sei certamente comunque sono il seggete Wilson buongiorno 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 sono Nicolas se non si ricorda c'è avvicinato la ho una mail e anche i documenti di linta grazie certo e anche i documenti di licenza grazie assolutamente faccio un breve controllo in auto aerosol il soggetto è fermato il signor Nicolas Wolfwood dove sei? sono circa all'altezza direzione Pacific Bank ma quanti sono? è un soggetto unico da solo no è quello della sicuro serve ha i documenti tutti in regola comunque patenti e porti d'arma come procedo? lascio andare vicecapitano? capitano? ah ma siamo in zona in zona maestro abbiamo una persona in maestro lo lascio andare il soggetto no si lo lascio andare 10-4 ok hai fatto il controllo tutta è regola signore va bene le scrivesco i documenti e le puoi andare grazie mille arrivederci buona giornata arrivederci buon lavoro complimenti vi avevi ragionato una torna dove era prima quell'altro andiamo sul punto della chiamata riguardo il punto della chiamata avete bisogno ancora dei rinforzi o avete stimato? no gli sono tanti guardi ci vado torna un attimo del rombo prima si si prego prego grazie sparì ma secondo me perché prima ha fatto una chiamata al sindaco dicendogli che era fermo e può essere anche che l'abbiano fa ah lpc ah che cazzo è schifo la tua guida è pessima ma cosa? ma sono gli lpc che girano porca troia che cazzo? l'hai superato l'incrocio a sinistra porca nella realtà ti ritirerei la patente nella realtà le persone non vanno così piano ma cazzo stava girando che deve fare a 200 non è bene non è leone al williams è carlo porno ma capolinea chi è? chi sarebbe di capolinea? quindi adesso controllo il bianco o il colorato? il bianco 10-4 noi stiamo arrivando per Adam 4 sto portando il soggetto centrale per te che è 20 eh capolinea è un nero no ce ne sono due di capolinea fidati uno è bianco e uno no ma il capolinea non so il capolinea originale cioè il padre chi era? ti è toccato la mano non la vedivi sulla macchina? no quale? no eh niente non c'è sto madonna tutta sfasciata ce l'hanno porca ma che c'era? è loro qui a Adam 1 abbiamo fatto un traffic stop ha una jeep bianca altezza a Castelletto vende da Corallo G4 eh che ti ricordi il disporto della sua survival la targa è 118 W punto di il punto di spot per la sua survival qui ci mettavamo qua controllavamo di sotto mi ricordi mi senti il radio capisano? si era cos'era la aspetta venita a coca era la vendita la cocaina era no si si era vendita la cocaina no era era l'acquisto l'acquisto semi no no vendevi la cocaina qui 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 vendevi la cocaina perché andavano in moto a farsela ed era sono usciti con una moto se ne sono andati via si infatti noi abbiamo detto ma che cazzo fanno là? mi sentite il radio mi ti dicevo capolini è stato dentro siamo un suo amico è uscito un po' dentro al suo amico adesso richiamo rimaniamo dentro noi ma dove si trova a cappolini a questa dove si trova sta dentro al come di festival però non voglio che dentro fare pulizia qualcuno che sia fuori mi confia ah da un buono ci penso io sono io sono fuori all'esterno ah ok affermativo allora mi distacco vado a far benzina anche a far benzina io vengo in zona faccio vado giù benzina in teoria la villa di Gregory è ancora distrutta no no la villa di Gregory è già costruita anche niente devo riavevo tutto hai risposto giù però sì mi hai risposto cosa ti ha detto ha detto che se ne possiamo parlare prendi cosa sta ok perfetto scegli pure ok ha detto non è mai stato preso in considerazione però certo che si può fare appena possibile ne parla con se lo sta e lo mettiamo in allegoramento ha detto l'ho posto 5 asu e 3 per la polizia e cara del cedino oh arrivo subito la casa non te lo so mi raccontano la pc cosa ma che dico beh in radio qualunque frase strana che sentite su di me sapete che dovete intervenire dentro ok sì sì sono spagato il video ho capito ho 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 Io, se vuoi, stai la porta davanti, perché tanto saremo l'unione a fare di sicurezza e ci pagano, oppure stai da lontano col pinocchio e mi chiuso se... Affermativo. Io sono già appostato sull'ingresso. Io... Si vedo il tavolo, attento. Che... Che intervenire si dice qualche frase strana. Ah, ok. Ho capito, Nitero. Mi vado a mezzare qualche patto e a vedere se trovo il post dove pagare il pinocchio. Questa è una volta. Carabinieri chiude il superiore nella stanza dopo il picchio. Il stanza è un po' di cose. Eh! Eh! Che... 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 Abbiamo trovato il posto, io mi sono appuntato sul tetto davanti, forse ti stiamo raggiungendo nello stesso tempo. E niente. Beh, ci ha fatto voglia. Eh, io sono tutta la piazza. Sì, sì, io ho fatto un po' di partita. Eh? C'è che radio... Dopo l'inizio di una prima chiamata. Lo vedo. Capolino, ecco la nottiera bianca. Sì, come abbiamo visto che stavo con la pistola in guardia. Che cazzo? Ha appena posato il telefono. Si sta avvicinando a un'altra persona. Stanno rientrando due personali interna, eh? Cazzo male hai vista la macchina? Eh? Ma hai vista la macchina? Eh? C'è le macchine ferme qui. Sono macchine fantasma, ci sono un sacco di problemi. che cazzo. Sì. Sì. È proprio vicino a questa che suona. Sì, in effetti. Bravo io. Sì. 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 mettiamo parola c'è un carattolo ti avevi mai visto stupore è fermato figa c'è quel calore la sua rastrattava una volta si la faceva smoker sul tempo che parla di io avevo avevo marisa dare l'avvento halloween dello scorso white sta entrando un altro con una maglietta una giacca bianca sta entrando un paio di persone all'interno diciamo essere tanti che cazzo ridi no anche marie sta andando alla comedy anche marie sta andando a comedy chi marie non la conosco marie 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 questa crociante marie maria 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 check radio check buono check manix siamo appostati perchè c'è proprio di strano al comedy secondo il tenente quindi siamo qui appostati e aspettiamo novità novità ok appena finito di mangiare un pezzo proprio appena finito di mangiare la mousse al cioccolato colato. Questa vuoi continuare a guidare adesso perché andrò a mangiare. Al fuori, hanno appena detto che non ci vuole niente, basta il coltello. Chi è che è entrato con la battuglia dietro al... Noi! Ma cosa abbiamo fatto la strada? Eh va bene, lo facciamo. Ascoltatemi, adesso hanno appena detto che basta il coltello e facciamo la strada. Tutto è un pezzo. Vabbè, l'ha detto Capoligna. Sì, Capoligna. Vabbè, ma che cazzo c'è? Cosa vuol dire? Dai, offriamoci, andiamo ai punti a nord. No, non possiamo, sono in live. Siamo in quattro. Che cazzo, maledetta a te. È quella di Totò. Non è quella di Totò. Ci questioniamo. Allora, vuol dire che è strano? Sì. Sai, sarà uno che è crashato, sicuro. Proviamo, se mi rispondo al meccanico o pennello? Guarda, sì, è crashato perché i panali accesi, vedi? Vedi, chi è la macchina? Eh, non lo so. Te lo dico io? Vabbè, c'è questo fuori, va a 692 contro il 692. 692 NGX. November, Golf, Venti. Sì, ce la scrivo io. Leone Borghese. Oddio, l'ho sentito. L'ho sentito. L'ho sentito. Ah, ecco. Venti. 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 Stanno camminando dentro. Sì, ma hanno detto a... Venti, prendiamo gli altri e facciamo il sentito. Sta, sta... Vai, sequestra. No, è una ragazza. Non c'è il meccanico, andiamo via. Torniamo dopo. Spostano, se no qualcuno ci va addosso. No, posso bene partecipare? L'ambe, spostami. Manix, posso bene partecipare alle cose, eh? Spostala, se no qualcuno li va addosso e si massacra l'auto. È solo che siamo a break, siamo un attimo un po' appostati in zone lontane perché non avevamo stato aspetti. Stiamo riprendendo, quindi era ampiamente... Sì, sì, certo. Era fuori. Siccome a me mi interessa della sicurezza delle persone. Già. Noi intanto siamo qui in zona, non sa mai cosa magari succedere là solo. Ma l'istrata pattuglia è più vicina perché si sono fermati. Noi siamo a muoverci. Invece non lo posavamo. Noi devono offrirci per andare lì. Di loro perché è stato più veloce. Quindi noi siamo in zona. E vediamo che succede. Avviso che hanno aggiornato il regolamento che non si può sparare dall'interno dell'autovettura. No, non si può più sparare dall'interno dell'autovettura. Ma perché prima cosa era concesso? Perché anche prima mi ricordavo che era così. Prima potevi sparare solo se ti ingaggiavano. Ah, adesso proprio non puoi più sparare. Ora non puoi più sparare con me se non dovevo mancare. Vabbè, mi sembra giusto. Sai perché va bene? Perché? Perché ti spiego io qual era il problema. I figli che a suo tempo, io zombie, mettevo la regola dei vetri scuri, avevano tolto che potevi metterli. Perché cosa succedeva? Fermavi le macchine con vetri totalmente scuri e non capivi quanta gente erano a bordo. Tu scendevi, questi ti puntavano alla pistola. Dicevano io ti punto la pistola. Ma se non vedo la pistola cosa devo fare? Prendevano e ti sforacchiavano in cinque persone, capito? In quattro persone. E non era giusto, capito? Cioè era poco... E poi non si spaccavano i vetri. Tante macchine non si spaccano i vetri, capito? Rimangono integri. Quindi praticamente... Eh, va bene così. La regola mi sembra giusta. Boh, adesso ci sono i vetri scuri che sono più belli da vedere. Però cazzo non sparì più. Basta. Hanno ragione. Dall'auto era un po' più a sparare. Hanno ragione. Punto e basta. Tanto a dare un braccio e poi a dare una mano per si prende tutto il braccio. Tanto noi polizzati già non si sparava prima dall'auto, quindi siamo a posto. Sì, infatti. Io non sparo da tutto il wipe con l'auto. Io ho sparato pochissimo questo wipe. Tutto wipe no, ho mai sparato dall'auto. Neanche una volta. No, io invece ho sparato pochissimo in generale. Tu pensa che l'unico richiamo che ho preso nella mia vita, che è stato agli inizi dello scorso wipe, Sì. Avevo preso un richiamo proprio perché avevo sparato dall'auto. Ah, sì. L'unico richiamo della mia vita. Un altro dato, sono filmato inesistente. Sì. Pronto, polizia? Sì, Sara, mi dica. Sì, mi dica. Sì, mi dica. Sì, mi dica. Può mandare immediatamente una pattuglia qui al Tequila? Perché mi hanno chiamato e hanno detto che c'era un movimento strano. No. Io sono all'appunto della sua chiamata. Ah, ok, perfetto. Lì, devo andare al Tequila, devo andare? Sì, 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 al Tequila. Ok, arrivo al Tequila. Salve. Grazie mille. No, 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 porca troia, aspetta, porca troia. Un attimo, un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Qui, ok. Qui Adam 2. Mi ricevete? Sì, mi chiamiamo del Tequila. Ok, la chiamata che è appena venuta è il giorno di giornalise. Il giorno di tequila mi ha detto che delle persone ha detto che intorno a Tequila c'è movimenti strani. Io arrivo vicino a Tequila. Mi occupo io del Tequila a controllare. Poi voi siete pure nelle vostre posizioni. Adam 2, affermativo. Però non esponetevi troppo verso il comedy club. No, noi ci occupiamo del Tequila. Ok, la posso. Guardatela. Però le scarpe quelle sono rimaste. Che metteranno la nostra, in teoria? Che palle. Ancora che chiamano. Che risposta? Io non ho più. Non ho più. Non ho più. Un attore portatile. Che dice? Salve. Ciao Emily. Salve. Buonasera. 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 Ciao Mark. Buonasera. 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 Ciao Mark. Buonasera. Ufficiale Wilson. Sì, salve, venica. Con te. Per un attimo. Il presidente mi hanno chiamato perché il signore era in una zona dedicata allo staff. Eh. Oh bene, non voglio avere problemi, cazzo. Dimmi un po' che che c'hai. si però le spiego è per la sua sicurezza lì è una zona dedicata allo staff se lei vuole stare in silenzio quando siamo entrati non so chi cazzo sia c'è uno che sta chiamando e se ne è uscito fuori ed è più lontano quando c'è a pisti io non la chiamando sono amico del titolare sono io titolare non so finemente chi è lei va bene, chi lavora a te io penso che il suo collega non voleva avere problemi stavo cercando un posto tranquillo perché si è messo da là sento le voci, capito? c'erano le poltronnelle giù appunto vabbè signore per favore evitiamo di andare nel posto di giudizia che bisognava stare la strappa beh non c'è neanche bisogno di chiamare la polizia io non ho chiamato quindi sono dovuto fare a posto qui siamo tutti tranquilli a posto noi andiamo allora ok signore grazie mille a posto arrivederci arrivederci meglio così il sasso locale è pieno di donne occhio quando esce ma le signorine non le conosce la madonna è sempre più donne qua arrivederci arrivederci sento gente che c'è madonna qua ma che succede? oh verne andiamo ma chi era stavo scendo capolina sta venendo sul retro? avete bisogno di ma era capolina quello? no 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 madonna con la con il lag qua porca troia sì aspetta un attimo arrivo ma qui stavo cancellando la cache non so se cambia qualcosa ma io non l'ho cancellata la cache ma no non cambia niente perché tanto va un po' va un po' bene poi dopo un po' torna come prima uguale io cancello la cache solo quando c'è il wipe del server sì anche io sono lì a cancellare la cache ma l'hai vista la mia macchina? quale? la Ferrari no ma non è la Ferrari è la Carbonizzare ah sì 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 no l'ho preparata non puoi capire com'è adesso ah voglio vederla allora dopo intanto c'è il peccuccio apribile ah sì sì mi ricordo che avevi fatto ok è l'isola in città no lo so sinceramente per adesso non la chiamo non mi interessa se ha bisogno mi chiamo a lei la lascio un po' con le amiche gli amici perché se no sto là per tassarla sì poi ti dico stai attento che c'è nei fatti di lavorare perché se no magari sono un licenziato un sergente eh? hai visto che hanno un licenziato un sergente è un ufficiale oggi sono licenziato? sì perché? perché per l'attività ma quelli proprio non si facciano vedere sì sì ovvio però tu mi raccomando dai per farvi vedere ogni tanto per evitare questo ma sì sto a far pattuglie sto più con voi con mia moglie stanno per entrare i timotipoposchi e tutti gli altri della combricola di ecopolinia dentro la come di la un po' di voi fa quella contromano? ci sono anche due ragazze una che cazzo fa? sì stai vittando la macchina noi ci appostiamo pure noi che se volete potete scendere non sta a 32 dove sono i taxi fate il giro no no andiamo a fare un giro anche dentro smis ragazza che ho la la body come al solito no ma è Mariani ah sì spingiamo il motore come fuori fai ok che è TAM2 pietroiamo un traffic stop dietro la Pacific Bank all'incirca pietroiamo un controllo al veicolo chi è? che è un arino? sì vai tu targa 660 Y deve rimanere uno con l'arma estratta va bene che va bene ma non scappa vabbè ok salve buongiorno buonasera buonasera agente sei da solo in macchina? no c'è mia moglie io eh perché purtroppo con i vetri scuri non vedo più niente il veicolo appartiene signore ok mi dà un attimo i documenti spero di domandagli a lei non so aspetta vabbè scendo scendo guarda faccio prima ok ok venga venga qua davanti purtroppo mi spiace ma che vedi scuri non vedo più niente no tranquillo stanno entrando tutti quanti eh occhio nel vero hanno peccato stanno corriendo verso il tequila vediamo documento di identità un attimo diventa una macchina vabbè ma ah è Mariani eh sì l'ho riconosciuta apposto apposto collega ma è Mariani apposto va bene ma l'ho riconosciuto ma vabbè che cazzo fai fermare fai fermare Mariani cretina cazzo atom 2 qui tu dei stop computato l'abbiamo fermato ci avevamo parato ieri l'altro ieri cos'era per le fatture vabbè però voglio fermarla per sicurezza ma che cazzo fermi però c'hai ragione sai perché voglio te lo spiego perché 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 chi mi dice che lui è in macchina e non è rapito da uno che è infatti ma poi comunque mi dava anche un po' male quindi mi provo a fermarli sai cosa mi capita spesso e volentieri eh a me in real sono dentro tu fermi una macchina no restano un maschio e una femmina no sì ok tu se tu vedi che la la donna è abbastanza strana molto seria generalmente prendi la fai scendere e te la porti ti vedi ci scontano tutto a posto perché è già capitato di ragazze che sono anche prese non in nostaggio però magari i ragazzi sono là che l'hanno menata e magari vuole continuare a menarla capito sì sì capito devi sempre stare attenta alla situazione perché non è come appare capito soprattutto con le donne bisogna stare attenti massimo se c'è qualcosa che non funziona te la prendi te la porti in disparte e ti dice ascolta tutto a posto sì sì magari quella che ti dice eh c'è il mio ragazzo che mi puntava un coltello e me lo voleva ficcare in pancia sì 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 Puoi controllare qua? Io sono in live quindi Lo ricordo il posto Sì qui a sinistra Sì E se c'è gente Chiudo la live un attimo e arrivo Dai vai a contornare tu E se mi fai arrivare è lontanissimo Vice capitano mi dicevi dentro al tequila Aspetta che ci devo ancora arrivare Come è la situazione? Ok, a posto Ok Che cazzo, attraversare 3-4 portieri Puoi cadere i piedi? Ok Sto arrivando, abbi pazienza Sì Aspetta che sto arrivando, fammi correre Sì Ok Ok A posto Arrivato Cioè per non far vedere un punto caldo Mi fai due chilometri di distanza tra poco Eh beh L'unica volta Cazzo Dentro il tequila c'è anche un pochino Dentro il tequila c'è anche un pochino Ragazzi sono io dentro il tequila Non ho entrato Non ho entrato Ormai non ho entrato Ti sto Ti sto Sto rivegnando da sopra Ah io ci c'è avuto Facci Qualunque C'è No Eh Dani Io vado un attimo a fishare In real Sì 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 Vai Per mai Lasciamo Icaro che sei molto bello Tu non è che stai saltando Ti puoi vedere Brutto stronzo Eh Niente Sono dovuto usci perché hanno detto che stanno andando sopra Oh Though Alla And Alla ال Alla Guarda che bello, ma che bella sarebbe qua, facciamo qui degli appartamenti, guarda, guarda questo appartamento dell'albergo, guarda che bello st'albergo qua, mi piacerebbe che mettessero una stanza, mettessero degli appartamenti, ci starebbe pure, ma secondo te questo, guarda guarda che bello sto qui, se lo schinnassero sto posto, guarda che bello che è, sì ci sarebbero, ma lo sai che mi dicevano, no pixel, mettono i blip direttamente, ti fanno la casa capito, quei blip, da quello che mi hanno detto, l'agente immobiliare metti i blip, ti rendi conto, ah beh, quello sarebbe bello, ma tu mi sono sempre chiara, ci sono case, appartamenti in questa zona qui, ma dove sono? Guarda, la mappa, la mappa di GTA 5, forse è tra le mappe più belle in assoluto cittadine, fuori, c'è questa zona qui cazzo, ma c'è che bello abitare questa zona qua, c'è questa zona dove sono i fiumi, sai che una volta qua c'era la vendita della cocaina, te la ricordi? guarda solo, c'ho fatto un conflitto a fuoco della madonna, mi spararono su uno, no ma io ancora forse non c'era quell'epoca, no c'era intervenne era io, intervenne Smoker, c'era Ivan, c'era, c'era un altro agente di polizia, era la vecchia polizia, era la vecchia polizia era la vecchia polizia allora, per cazzo stiamo andando, la vendita era, la vendita era, aspetta ti dico, si però sai che bello per gli appartamenti qua, era qua la vendita, la vedi là? no, dove? ah, te, non c'è più un cazzo, hanno chiesto chi è il capitano, occhio, ma sai che bello abitare in questa zona? si, si, ma infatti non c'è nessuno, stranamente non c'è nessuno qua, ma non c'è nessun appartamento, il blip, nessun blip, c'è una nuova stranissima, sai che bello quella casa qua, ma che va ai parcheggi che c'è qui sotto casa, certo? tutto, ti sei resa conto, non c'è, non c'è tipo in riva, in riva al mare, ci sono pochi appartamenti? infatti, eravamo tutti in città quanto figlio sarebbe averlo in riva al mare lungo, lungo la costa est, per esempio? ma c'era una volta, una volta sono andata in barca fino al... adesso ho avuto del chantier, no? tipo, ho detto, vabbè, appena andiamo alla barca, andiamo fino al bus che sarebbe un appartamento dove ci siamo sposati tipo così, cioè, guarda che bello, tipo, abitare in questi posti qua, tipo, guarda, scegli tipo, per andare a casa e fare il giro qua, arrivi qui che c'è il fiume tipo, che bello sarebbe abitare in questa zona cioè, guarda che bello tipo, ti fai delle case qua, ma... vuoi vedere dove era la vendita a cocaina? vuoi vedere? vieni, vieni ti immagini in live proprio un flip no, 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 fidati, l'avevo controllata... c'è quel cazzo dico, dove era la vendita della cocaina? era... qua questa scala qua oh, cazzo, c'è ancora? no, scherzo no, madonna, sei pazzo ci ho fatto due conflitti a fuoco della madonna perché da me... mi spararono sul culo, ero incazzato come una iena però sai che bello avere la casa qua, l'appartamento, cioè... perché... c'è una strana che aveva messa nessun edificio qua nessuno vabbè sicuramente guarda guarda che bella guarda che bella qua 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 vedi, eccomi Paco ah sì, va che bello basta mettere un blip dentro che ti porta fuori là un no pixel, l'ho visti vedi quelli ha metti un blip di uscita ti metti la ti metti la ti metti la sole anche guarda questa casa qua grigia anche qua bel terrazzo sono tutte belle oh guarda guarda questa qua, quel terrazzo in alto guarda che bello questa qua cazzo è anche moderna come caso fammi vedere si è una casa abbastanza anche moderna si vediamo da dove si entra in teoria da qua guarda c'è anche perché c'è la macchina qua si ci sta si può entrare qua per esempio l'entrata della casa no 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 questa è tutta questa qui davanti c'è un'altra l'entrata accende una qua qui guarda questa è l'entrata ecco qua di casa tua c'è il terrazzo sopra cazzo che bello sarebbe ecco qua peccato peccato allora il lavoro dell'agente immobiliare fosse ben costruito con i blip sarebbe un lavoro bellissimo si eh beh però dai ci sta comunque c'è questo web c'è stato un grande cambiamento per la gente immobiliare c'è stato una volta c'erano le case tipo di città mi dava messa casa adesso si c'erano 800 persone con la stessa casa ora si io c'erano l'unica casa diversa adesso si è simile ai no pixel questo mondo qua si però so che non puoi fare il flip ma vabbè i no pixel il server c'ha a me non mi piace l'rp fa schifo secondo me io li ho visti l'rp e veramente prendo però hanno di quelli script ma piccata perchè è inghilese non lo seguo perchè è inghilese no io lo seguo un po' lo capisco però è proprio dominevole secondo me io almeno so che sto parlando però ragazzi i server in sé gli script sono una cosa spaventosa ma boh lo dicono tanti c'è veramente animi lucidi davanti ogni server quello là ma si ma in Italia è proprio indietro infatti oh ma che c'è in Italia in Italia in Italia c'è il nostro server che di script magari non è il migliore però a livello rp siamo anni luce avanti però a livello rp è il migliore di tutti è il più vecchio però a me io sono di l'idea che gli script siano relativi beh puoi avere tutto il vero l'importante è l'rp puoi avere tutti gli script del mondo l'importante è l'rp cioè se serve qui l'rp è top magari gli script ce ne servono un po' di meno magari tendono a fare poche cose ma chi se ne frega però chissà l'rp è bellissimo mi divertivo anche quando le server erano la metà degli script capitano cercare sempre di rimanere dalla parte con le spalle tirate verso ancora una lista e ciclicamente ciclicamente la gente se ne va via dal server perché pensa che gli altri siano meglio e poi ritornano tutti si infatti è sempre pensa che c'è stato un periodo che io giocavo giocavo nello server e erano 5 o 6 persone vabbè natale dell'anno scorso ti dicono che c'erano nessuno si perché pensavano tutti che facessero il wipe ti ricordi poi alla fine erano fatta a metà febbraio perché pensava la gente pensava il wipe no? allora la gente non giocava più non giocava più perché c'era il wipe io dico ma giochi per cosa? per fermare? non sbaglio questo wipe qui sta durando un po' di più del so si ma ci sta ha aperto il 13 di ottobre in teoria se voressero fare come sempre dovrebbe chiudere il metà metà 15 di gennaio però siamo ancora 15 iniziano a non solo evento strano ci sta ci sta perché ci sono parecchie storie in baller e p e se per adesso ci sono ancora storie in baller e p e se per adesso ci sono ancora storie in baller e vuoi dire che serve può essere vivo ancora ma certo perché si ma si nota anche ci sono molte che è la gang 2 è praticamente nuova è da un mese che c'è la gang 2 hanno fatto ancora pochissime cose cioè si è noti anche le indagini di polizia vanno avanti cioè finché gli altri non notano che magari si bloccano l'rp la gente inizia a sparire così oppure magari ciò riccardo sai che non so l'unica cosa che non so il non pixel c'hanno il wipe anche loro o vanno avanti all'infinito? perché lì vanno avanti all'infinito perché non ho mai visto un wipe passando i stessi personaggi ecco l'unica cosa un po' che mi storce il naso è ad esempio qua è gli appartamenti sfitti capito? c'è gente che non loga più da una vita c'hanno appartamenti che sono occupati vabbè questo vabbè questo è vabbè anche in real c'è gente che abbandona gli edifici vabbè ma mo l'appartamento accanto a ellison di mike mike è stato permadettato no? sicuramente in automatico si libera in automatico la professione wifi è l'appartamento si libera con di mike sicurissimo quanto cazzo costa? eh tanto tanto quanto? eh chi da capitano oh ok salve salve mi senti? parlando al telefono senti parla a me? no no al telefono vabbè si a vederci neanche che ci cagava di striscio neanche ci cagava questa qua mamma mia cioè io nella vita reale saluto una persona a minimo un secondo e mi parla cioè che caga cazzo vabbè vabbè adesso sta va bene così andiamo ad un attimo in stazione di polizia ti faccio vedere la ferrari invece comunque questi appartamenti qua oh questi appartamenti vicino a sinistra sono comodissimi davanti alla piazza centrale comodissimi ma c'è ancora la farmacia? no 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 la farmacia? eh c'era due wipe cioè adesso non l'hai mai usata mai vista usata non l'hai mai usata in teoria doveva vendere gli sciroppi doveva vendere gli sciroppi e i medicinali infatti però la tiene niente non l'hanno fatto nulla non l'hanno fatto vabbè secondo me se non impoverivano troppo i medici qualcuno lo so dentro si caccio marco per me con la piazza di wipe di sto wipe la tolgono no ma c'era una proposta business per la farmacia hai visto le mie proposte? è pronta hai visto le mie proposte business? è pronta hai visto le mie proposte business? questo sul sito guarda 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 il tituccio? ma si me lo ritorno ma vado a vedere è bella si si però si baglia tutta quindi chiudeva l'ho fatto togliere il cofano in carbonio si infatti è un po' bruttino i panali non è che mi piacciono questi qua li dovrei far cambiare in quelli bianchi ti faccio un giro? no dai sei in divisa se abbiamo vetri scuri no ma comunque poi c'è qualcosa di a tequila ma è bellissima porca puttana che bella non ha nemmeno un prezzo esagerato lo sai? eh ah delle ottime prestazioni costa 75 mila non è tantissima no basta un caso 75 mila ha delle prestazioni che sono ottime anche anche così senza kit quel kit va come una bomba stanno comprando da bere lascia di comprare da bere ma che paleo che sono stico io che cazzo sta lì a pressarli mamma mia e quindi si compra una pera che paleo c'è mamma mia andiamo a vedere lo yellow jack ma dove stanno? ma sono tutti di al tequila magari che cazzo non so ma noi non possiamo andare al tequila ma stanno facendo le operazioni cazzo non c'è nessuna operazione aspetta 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 allora devo dirvi a Elison ha chiesto se andava al tequila che sta là pensano che possa uscire qualcosa al tequila ma cosa li devo dire Elison che non posso non c'è nulla non c'è nulla sono loro che si fanno le avvisazioni c'è non ha senso capolinea quella gentellina un cazzo non lo capiscono vabbè .... 64 player e server non si vede più che uno il giro è incredibile come? ci sono 64 player e server non si vede neanche uno il giro Perché stanno tutti al tequila e quell'altro Ma il comment del tequila Che sono tipo attaccati Qua c'è qualcuno Qua c'è qualcuno Che cazzo è? Non c'è qualcuno Ok il vice capitano ha deciso che potrà fare un bel flip Non c'è nessuno Oddio vita C'è vita Questa è Sparta Ho stato usato il telefono Il local Hai visto? No Stavo usato il telefono giuro Ci rendiamo a fottere le ciambelle di sceriffi Ok Andiamo a fottere le ciambelle di sceriffi Dai andiamo in scerifferia Dai li vado a fottere io Tanto me lo ricordo il codice di apertura Ma non è nemmeno cambiato da quando stavo io sceriffi Aspettami qua Vado a fottere quelle di Thomas Vado a fottere le ciambelle Aspetta Allora codice Uno Uno Sette Ecco là Sì ok si è aperta Sì 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 Dammi queste cazzo di ciambelle Sì Sì grazie Thomas Grazie Fuori dei coglioni Via 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 Andiamo 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 Niente Tieni Tieni telepass Quante le hai prese Ci siamo entrati all'ospedale Li senti? Sì È gigantesco questo ospedale A proposito lo sai? Cosa? Che hai già incinta Ah no non ho mai detto le erapie ancora Di dieci settimane Guardate ma che c'è il tattoo? Eh? Mi c'è il tattooaggio Dieci settimane Dieci settimane e sono tre gemelli Tre gemelli? Sì Vabbè con me c'è alta probabilità che siano gemelli Perché sono io il sesto di sei gemelli Sì non l'ha presa tanto bene però Sai che lì telefono va Guarda perché va il locale Ci sarebbe pure qui Per niente non esiste nulla Parcheggio centrale vai Vai in parcheggio centrale vai Guarda che topaia qua Non so se non me c'è qualcuno che ci abita C'è anche l'hotel C'è quello di merda Eh Senza porte senza niente Non c'è niente più le porte C'è anche l'abitazione Vabbè Ah tu occhio occhio Qua vedi c'è la vicenda C'è il blitz dell'abitazione L'avevo visto mi sembra qua Eccolo lì guarda Chi cazzo ci vuoi abitare là? C'è il cesso Amore Ciao Scusa mi stavo Stavo commentando con Emily Una cosa Però lascia stare C'è un appartamento in vendita Praticamente al motel Sai quello di Sandy Che è una topaia di merda Proprio schifo Adesso c'è l'appartamento Abbiamo detto che magari qualcuno Se l'è preso Come all'interno No no Ma se abito con te Che appartamenti devo prendere Scusa No Io mi cambio a casa tua i vestiti Ce li ho a casa tua Casa nostra anzi Sai che io sono Vabbè Non ti fai Lascia stare Sempre il presente Va bene No no Lascia stare Una battuta sui gigolò Sui gigolò Quando c'è Quando C'è una signora Anziana E c'è Ragazzino Certo c'è una battuta dentro Parecchio giovane Eh lo so Però sembriamo così Capito Shugamami No stasera Lascia stare Va bene così Primo mettiti nell'angolo In fondo a sin Si sto Assendi Se Emily magari si comincia a mettere Parcheggio centrale Emily Eh Metti questo cazzo di paleggio centrale Guarda che bella chiesetta Dai porca puttana Ma perché andiamo in mezzo al nulla Dai Guarda che bella Cristo santo è rincoglionita Si sta guidando Purtroppo si Tranquilla E' stata brava oggi Abbiamo fatto solo due botti E basta Solo due botti Però che bella Perché mi porti alla chiesa Emily Porti alla chiesa al nord Sono già sposato Inutile Andiamo 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 a gara centrale Cosa tic tac tic tac Ma questa casetta Stampe Piccola casetta Che sono da Io Con il tic tac tic tac Ci starei attenta Sinceramente In altri In altri tempi Il tic tac tic tac Non era ben visto Ti ricordi Ah no aspetta Eh no Non ti puoi ricordare No Non ricordo Cioè mi confondo Perché Mi confondo Con Manuela Belli Che era Cosa è le tette di fuori Fuori A parte che deve Mi sa che Ti si stanno ingrossando Vero Sai pure Tre germelli Ricordate Niente Ancora Devo andare A parcheggio centrale Porca troia Guarda Adesso smonto Quell'auto in corsa Porca troia Ecco Sono tanto Sulla strade Normali Intento In mezzo alla melma Mi hai portato Cazzo Vabbè Che era toccata Dio mio Ha toccata la macchina È toccata Abbassi i finestrini Abbassi i finestrini Fammi respirare Un po' D'aria Sì Sì Spira di D'aria Con l'acqua Con la pioggia Chiudiamo il finestrino Chiudiamo il finestrino Eh ecco Ti blocco la testa Nel finestrino Vabbè chiudiamo il finestrino Sì Sì Dona guidi mi fai vomitare Come cazzo E sta tranquillo Però poi ci sono T'hanno fatto i verbali Vero Sta zitto Vabbè Mi fai il culo Che è un vice capitano Ha fatto Mi ha fatto la muta Mi ha capito male Ho trovato Aspetta e corri forte Cazzo Ti dovrei fare già adesso E niente Diverti Diverti Mi fai il culo Belli Belli Non fai lì Con le telefono Ancora No No Mamma mia Perché è quello Il SUV Il SUV Bianco Che SUV è Che strano Un po' veloce Vabbè un po' Tu l'hai mai visto quel SUV là No infatti Fai veloce È un No aspetta È un Non vede Ma se me lo sa È un Range Un defender Sembra Ci sta Range Rover Defender Ma Ma bello Ma che bello Vai in piazza centrale Porca troia Cosa fai qua Amore Ma dov'è lei Chi è Che cacchio sono Eccola Ma che cacchio Sarebbe un giorno Che è successo No ho sbagliato Un po' Cosa Ciao Ciao Ma che usi L'ombrello Che sei un agenti polizia Togli via Togli via questo Avrebbe di merda Ma che cazzo Non puoi usarlo Eccomi Eccomi qua Ciao Ciao Ma che hanno fatto Cosa è successo? Che? Che niente Che hanno fatto? Che mi hanno scritto Mi ha dato un messaggio Ma chi ti ha dato la patente? Chi te ne ha detto che ce l'ho? Ma hai visto che pioggia? Chi ti stai bagnando comunque? Oh qua piove È stata Rientra dentro Actung Actung Sì? Sai vero che in altri tempi Con questo su su Viola rischiavi grosso Vero? Non lo so L'ho trovato live Con il mio collega Sì pronto Dipartimento di Polizia Parlare Sargente Salve Salve signorina Salve sergente Ascolti È presente il capitano? Il capitano è presente? Sì Non è che mi può Non è che gli può riferire Se può venire in centrale Portasamente Sì magistrato Ma non lo avete tipo Da un mese e mezzo? Eh infatti Devo parlare di cose Sono molto importanti Ok va bene Allora lo faccio venire in centrale Grazie Grazie Se riesce venire a posto Grazie Salve È urgente Sì Ciao Capitano Mi dice Capitano Mi dice Capitano E c'è Il magistrato Rob Speer Che vorrebbe parlare in centrale Eh Sì E Rob Speer Magistrato Sì Arriviamo Perfetto In centrale Carissimo Stiamo andando nelle fogne Ma per cosa Nelle fogne? Ho voluto benissimo Con quelle tue Siamata E niente Sì con loro Non so cosa Non so cosa Non so cosa Ma comunque Le cose Dico Non ci ti dico Amami anche tu Adesso scappo Mamma A dopo Mamma vai vai Attenzione No questa Non credo Di aver capito Bene Ciao Come stai? Ho sentito Una cosa Strana Abbastanza brutta Eh Ti capisco Mamma Ma non stavamo partendo Non dovremmo partire adesso Ma il problema E che qua c'è un problema Di mucche Come mucche? Non lo so Parlarò di mucche Non lo so Mi interessa Io mi dissocio No abbiamo un problema Che l'Eccanera E' sparito Ma è Fatto male Ah ok E' Aleksandere Andava a mettere Eh ma poverino Farcourre Già quell'ora? Che c'è? No No Vai via Mi hai dato della Molta tre volte Scendo dalla macchina Giù E' niente Oh Ehi Vado nelle fogne Ma la te ne pongiamo sigla così qui Eh? Vado nelle fogne Sì Guarda Una scampagnata Non lo so Che bel posto E' idee di Totò Alexandre Io non c'è niente Mamma che bella idee Eh? Che belle idee Che è Guarda Alexandra L'idea poi sparisce Lo sai che accade come il giovedì Veronica? A questo punto mi sa che ci portiamo dietro questa Sì sì Ah infatti guarda Aspetta Guarda eh Mamma Non è l'Urlus Trattano bene? Che disaccio Oddio che micchia Ernestino Eccomi Eccolo E' la carmessita Hola Ve l'ho detto Dobbiamo fare un giretto Cosa mi scrivi le email se poi torni Ti fai spaventare Capito? Mi hanno ravito gli alieni è colpa Ce la fai Francesco? Signore che devo prendere un veicolo Aspetta che Aspetta sposto No Lei è la prima che lo dice Ieri Sì ma lei lo può dire tu no Mark Ma Io mi dissocio Vaffanculo ti ho detto Ciao Emily Ciao Emily tesoro Portatelo via per favore Certo Andiamoci Andiamoci No non c'è Ora sono pieno Ma Ma Sì E' la pannella lì Sali 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 Anthony Ops Entri Sovrana Tutti nelle fogne Qualcuno monta Montate qualcuno monti che dobbiamo partire Dovete montare Venga Mark Monti Sali Emily Monti Io non posso Non posso rimanere Io sono in servizio Vabbè arrivederci Ciao arrivederci No dai Monti Chi io Celeste Celeste Aspetta Celeste Deposito io la macchina Un attimo Sendo subito Chi se ne frega Celeste Se poi devo uscire Ma cosa te ne frega Mettiti a insalare l'axe Divertiti Ma no no Non posso Mettiti A insalare l'acqua C'è solo lui O anche Serena e Mark Che cos'è sto Sputa Che vuol dire Era per Mark Ho trovato Ho trovato la persona Perché ridi Mark Hai cazzato No Salgo Sì Vieni Vieni Ti guarda Ti guarda Ciao Ciao Lo so Ciao tesoro Ci vediamo Ciao Ciao Ma che cazzo Piano 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 C'è una persona Io Wilson Io Posso parlarti A te A te sta dicendo Vieni che Wilson Sì Bella Ascolta Se chiedevi di Poposky Sì C'ha problemi col passaporto Non riesce ad arrivare in città Ah Va bene Ok Bella Salve Mamma mia pasta dietro Ci sono un botto di macchine ferme davanti al bar delaggio centrale Sì Stanno partendo per andare a fare la scampagnata nelle fogne Ah Eh sì ma chiamati Guido Tutti fuoristrada vanno nelle fogne andranno A fare una gita Che bel posto E' più Non è più che annasare cosa dicono Il giudice e il capitano che succede fastidio e che la disturba dove restare mandano messaggi continui percavolate come cazzo le parcheggiata sta macchina e dovevo parcheggiare cristo santo tutta con tutta storta ma non sono parcheggi questi eh dove vai fermo dove c'è una macchina qui però non esco più vediamo se esco ecco sono usciti e vabbè sei stronzo slav therapy ma dove vai? ah va che giara nel garage che dico ma dove stanno? dove stanno nell'ufficio del capitano ma non penso che sono in traccia quindi io posso posso sempre anzi fammi mangiare un po' di ciambelle rispondete in questo modo hai mangiato di ciambelle? cioè che il regolamento presidenziale ancora non è stato approvato diciamo che è in via d'approvazione diciamo 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 in questo modo diciamo così ma altra cosa di cui volevo parlare è che mi sono state riferite diciamo cattive segnalazioni riguardante cosa? scommetto il procuratore serena a me non prego un cazzo di serena non mi interessa dopo quello che ha fatto non minoccia più il capitolo per me che ha fatto PM? il PM va prima cosa 300 l'ora in città e non la posso multare vabbè ma questo si sa mi scusi non volevo dire questa frase ha fatto abbastanza le cose mi scusi ma lei c'ha il potere se mentre parlo in privato con le vice ha il potere di infilarsi nella mia conversazione privata col vice con i droni accesi con no ma non mi frega se c'è i droni o no se io voglio parlare in privato col vice nel mio ufficio col vice posso raccontargli quello che vuole lei deve per forza presentare ma non è questo quello che ho fatto no questa è la cosa minima poi arriviamo alle più gravi ecco allora il PM il PM non può interferire sulla gestione della polizia il PM non può dire quella battuglia deve andare lì quelle uniformi ma chi si prega voi dovete messa questo uniforme ma puoi spostarmi il PM ha quello è stato sul mio consenso ma stiamo scherzando senza senza il nostro parere no però così alla lenta prima cosa è il lavorato della polizia sì ci sono il PM ha parola sui fascicoli d'indagine su tutto ciò che ha a che fare con l'indagine e quant'altro tutto il resto che la gestione della polizia nel suo operato nelle sue strategie nelle sue divise in quel tutto ciò che vuole dire che lei è un capo detective può fare quello che cazzo gli pare con i fascicoli signor giudice capitano non mi aspettavo questo turpiloquio mi perdoni io lo dico sa no 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 adesso parlo io perché sono abbastanza inalberato inalberato qual è il problema dei complessi di Serena che rompe il cazzo a noi e ci rema contro dicendo dicono non si fida di detective e soprattutto del fatto che lei dice perché avete aperto un caso sul rapimento di giugno e non sul mio vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua se non ti vedono effettivamente c'è una risposta questa domanda che mi ha fatto lei ho capito la polizia è la mia non la comanda lei punto allora io non la comando ma devo intervenire se effettivamente ci sono cose che non vanno signori voi sarete per mesi quanti processate per me signori siete dichiarati in arresto se il caro della rove elencata i diritti di miranda vogliamo sapere le motivazioni signori dipartimento di polizia santa salve senta volevo soltanto segnalarle che abbiamo abbandonato un audi e sull'autostrada perché abbiamo avuto un incidente a causa della pioggia è purtroppo abbiamo preso una bozzanga no non ci sono abbiamo chiamato avesse abbiamo preso un taxi per andare verso paletto magari se la vedete per il sequestro insomma non la sequestrata insomma ok grazie 2,8 ma complimenti che non conosce il codice si sta veramente di ammalettarmi che cazzo sta succedendo arrestatelo ascoltatemi avete il diritto di rimanere in silenzio tutto ciò che direte di rimanere in tribunale e se non lo volete capita niente stia fermo e non mi fai toccare tenente le abbiamo le prove che cazzo sto vedendo il suo avvocato potrà richiedere le prove quando lei verrà interrogato della rovere tutto fermi sta cosa le richiederà il suo avvocato durante il interrogatorio io ma che cazzo sto vedendo il vice capitano dovrà rispondere di fuori caro invece ma che c'ero dove scappa del rio giudice ma che cazzo di lei ma dire che se non può permettersi un avvocato che cazzo di giudice il vice capitano si è dilaguato dalla stanza bene dovrà rispondere del doppio delle accuse aspetto ancora a capire verrete vivere a fornire la roba a tempo debito ho capito stavo in mezzo questo è il traggio ma il traggio di cosa nel mio ufficio traggio forza signori forza camminata e forza o trappini come una personale come un criminale che non sono signor giudice scusi posso avere un qualcosa un chiarimento riguardo ciò che sta i signori sono stati arrestati per corruzione dovranno rispondere di tanti altri reati non posso rilasciare altre informazioni mi dispiace il suo alto comando probabilmente è corrotto anzi non probabilmente è corrotto c'è un problema signor giudice se lei ha arrestato tutto l'alto comando chi passa la gestione in questo momento poi ci pensiamo però adesso dobbiamo tutelare la giustizia e la legalità questo è il mio lavoro e lo esercito nel pieno delle mie funzioni questo dovrà essere a presenza con l'uomo c'è un giudice ma chi è stato arrestato capitano vice capitano tenente capitano vice capitano tenente detective icaro è prossimo il no il vice capitano è fuggito è vaso infatti adesso è ricercato quindi praticamente comando io la polizia adesso siamo noi quindi vedremo come gestire la situazione il prossimo essere arrestato il signor romulo che attualmente non è in città così è deciso mi dispiace ok va bene mi dispiace signori siete stati traditi fin dall'inizio ma che cazzo io comando io la polizia ma che cazzo sta dove io sergente capo tu sei sergente ma che cazzo lo so che non è un buon momento per chiedere questo ma comprendo la situazione del bla 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 però vorrei sapere dato che ci avete messo sotto chiave tutto l'alto comando chiedere gestire questo ne parleremo in secondo momento per adesso le cose sono gravissime insomma no comprendo la situazione non è questo il momento però comprendo cioè comprendo però è magistrato un dipartimento deve andare avanti vedrò di non si preoccupi opereremo anche in questo il prima possibile però per adesso ci sono la situazione un po delicata va bene bene dobbiamo procedere signore scusate se la giustizia arriva adesso ragazzi venire stagliare per favore io dobbiamo faremo anche patente però me ne frega un cazzo a tutte le unità non te la controlla nessuno tranquillo operabili no ragazzi ragazzi questo problema qui è un problema grave mi aspettate c'è alcazzani mi aspettate adesso lo salete il 17 e ragazzi tac tutti tac e andiamo su adesso nel canale è entrato nel canale permessi in sottolineata l'ambiente è stato spostato nel canale andiamo in sala briefing ragazzi non esiste più la roba di tac le cose intesse ma le cose in grado che succede e tutti su nella sala ma non è solo a brici non è straordinaria un utente è andato in un altro ruolo disattivato buono rientrare le patruttuglie dove è che è stato è andato in un altro canale quindi la riunione straordinaria tutti in sala briefing beh ragazzi forza tutti in sala briefing che la città non è coperta in questo momento non va bene ragazzi in chat la mia live è passata da 5 spettatori a 17 sì ma io dovevo staccare il metro mi sono passata da 5 a 17 in questo momento stavo staccando in questo momento questo è un problema no perchè ci può appena successa questa cosa e sono saliti tutti tetra io sono vice capitano in questo momento in questo momento però tu sei il mio capitano e io sono il vice adesso proviamo a fare una discussione serie senza incazzarci fai un salto ti siamo rimasti non siamo nessuno vieni conto che domani mattina devo cominciare alle 7 dove sono l'altro non c'è più nessun altro andata a prendere cose ma chi è che ha proceduto gli sceriffi? hanno avuto un mandato non c'è gli sceriffi? michele gli sceriffi non erano neanche via radio no hanno sottomandato del giudice adesso ne parliamo dobbiamo stabilire ha detto il magistrato che stabilirà un nuovo alto comando chi l'ha detto? il magistrato stabilirà un alto comando provvisori ma saranno quelli che sono allora siamo tutti ma non pensiamo a questo signori allora io ho visto tutto dall'inizio questa cosa qui non l'ho mai vista in vita mia nel genere agenti arrestati signori non so ne cosa dire esattamente siamo ad un problema diciamo grave in questo momento ci troviamo in una situazione di stallo con cui il capitano vicecapitano tenente detective Icaro della Rovere detective capo detective non so non esiste più detective Icaro della Rovere detective Romulo del Rio sono appena stati arrestati dalla corte della città dove cazzo stai andando scusa corruzione allora ragazzi signori io voglio esprimere voglio esprimermi una parola e voglio chiarire le cose ma che succede? vabbè perché arrivi c'è stai vendi le pentole non so siamo in un momento serio ho capito mi hanno chiamato è un massimo urgenza è capito adesso ti spiego allora adesso gli spiego a tutti quanti perché magari se fosse qualcosa all'incirca 10 minuti fa circa hanno arrestato il capitano vicecapitano tenente Romulo del Rio fammi finire Romulo del Rio e Icaro della Rovere sono state arrestati con l'accusa di corruzione dal magistrato sotto ordine i sceriffi sotto ordine del magistrato quindi ovviamente noi non sappiamo la verità però ci sono detto corruzione mi fai finire di parlare invece di interrompere noi in qualunque caso saremmo sempre dalla parte dei nostri colleghi ma c'era bisogno di dirlo voglio specificare e chi cazzo mi chiamo è blu e questo perché senti se non devi se non vuoi ascoltare te ne puoi uscire direttamente ora o vuoi che ti fai non lo so dove cazzo sono sono al carcere di massima sicurezza vuoi andare a fare male con le chiave oh ehi ehi lascia andare non ti permette vuole liberare lasciali fare lascialo fare signori io oggi non c'ho voglia di discutere mantenere la calma io non bisogna parlare allora io adesso per adesso avrei avanti con i gradi e basta che abbiamo poi domani dobbiamo discutere con Sara signori domani avremo una risposta riguardo a ciò che succederà è tutto avventato capito perché giudice ha detto di aspettare domani momentaneamente atteniamoci ai gradi che ognuno ha il comando è assegnato a Broadway come diciamo a livello massimo io come livello sotto di lui e Pasquale Soprano sotto di me quindi noi non interesseremo sì però in livello d'anzianità l'ho detto però comunque io Soprano e Broadway saremo il punto di riferimento del dipartimento di Evolezia di Los Santos qualsiasi problema sarà l'involgettigliano a me Broadway questa è una cosa questa è una cosa provvisoria ovviamente il capitano il vice capitano il tenente sono quelli e rimarranno quelli fino alla fine non siamo noi a rogarci il fatto di darci dei gradi che non possiamo appunto quindi rimaniamo con i gradi che abbiamo sappiate che la gradatoria adesso il picco più alto è Mark che è caposergente che è caposergente quindi lui è come fosse il capitano anche se non è il capitano perché è l'unico più alto in grado agibile in questo momento purtroppo è così ragazzi Wilson si è salvato il tenente si remo no tutto l'altro tenete conto che il vice capitano è fuggitivo e Romulo del Rio invece è irreperibile fuori città e mini tutto ok ragazzi rompiamo le righe ciao tutto ok andiamo a fare quello che sta perché ho visto 200 valanti della polizia praticamente non posso dirti ancora molti no 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 ti ho chiesto Emily ti ho chiesto tutto bene per sapere come sta la tua persona non voglio sapere niente io sto benissimo a posto solamente questo qua va bene ciao non mi interessava niente io mi ero preoccupato va bene ciao qua sono cadetti qua o sono tutti ufficiali questi due qua sono cadetti ok effettuare un annuncio vanno promossi secondo me perché non possiamo usare no 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 allora Mark uno secondo non corriamo troppo vabbè dai lascia l'icadenti non possiamo dargli i gradi rimarra tutto così fare un annuncio nel database per poter poter parlare con tutti gli agenti entro domani e spiegargli la situazione no ascoltami ascoltami bisogna che parli con parliamo con il giudice non faccia ascoltatemi ci ho già parlato io con il giudice che ha detto lui ha detto che ci fa lui ha detto che mi farà sapere eh vedi quindi non corriamo non prendiamo non prendiamo al comando qua non corriamo perché se corriamo poi ci rompono il cazzo anche noi io vi dico solo che i fatti sono quelli non è il primo vostro che succede ragazzi e non è neanche la prima volta che vedo una cosa del genere io no purtroppo e neanche io se per questo e quindi vediamo di contenerci continua a fare il nostro lavoro al meglio che riusciamo non facciamo vedere questa debolezza garantiamo garantite ragazzi le normali pattuglie per adesso lasciate stare droghe roba del genere avete capito lasciate stare i punti droga io voglio che le persone che sono state maggiormente in questo periodo minacciate in qualsiasi modo devono essere difese con la vostra vita perché siamo in pochi e dobbiamo farci valere perché sinceramente non mi importa come che voi andiate a girare per i campi e di quelli di là se riuscire a darci in occhio meglio però se sappiamo che ci sono delle persone che sono a rischio di vita preferisco rischiare la vita e non per un criminale da notare che via radio prima non c'era manco ci hanno fatto effetto sorpreso giustamente per rinculare la polizia io sono senza parole ho i droni in questo momento sono 25 persone ero 2 fino a 10 minuti fa honest vabbè la voce è quella andiamo tutti di pattuglia per chi è trovatemi sto cazzo di waves prima che gli stacco la testa dal porto cazzo ragazzi ma la live si esplosa quando è successo la resta spero che sia a far di me invece che a far a cerca di libera perché penso che sia un po' impossibile secondo me sta andando con l'elicottero ah saranno cazzi suoi io gliel'ho detto io l'ho detto qua io che non deve fare con cazzate provate a contattarlo via telefono un attimo qualcuno che c'ha il numero se ce l'ho io un attimo chiamatelo al telefono voglio sapere che cazzo sta combinando perché se no dobbiamo mettere il giudice se fa cazzare per fuoricchio qualcuno contatti i waves un ufficiale io devo chiamare Tony chi ha lui si chiama waves qualcuno prende l'uomo di waves sarà donata base quando andate chiamate raga chiamate o dite di non fa cazzate però dove tu vieni dal telefono città vai pure non ti tengo cazzo proprio adesso vaffanculo l'hanno fatto io non so che cazzo dire sono senza parole saranno tutti in attesa d'assistenza adesso sicuramente vedrai saranno tutti in assistenza no non saranno in assistenza no va bene cioè ragazzi non ci sono prove vero grazie per il follow star scatto cioè non ci sono prove ragazzi no sono senza parole a parte che la live ti posso siamo in 30 spettatori ah cazzano ah cazzano aspetta 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 oddio mi devo preoccupare no non ti devo preoccupare cioè non ti sto fare vedi lascia fare mi dispiace cosa ti devo dire a Waves che se non ci vedi in giro cioè non ce ne sono ok ciao cosa devo dire a Waves di tornare immediatamente al centrale che non voglio un altro agente in carcere povere ah ciao vabbè no 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 non cazzo ragazzi non c'è non niente avete trovato? sì io lo starò chiamando che cazzo è qua Waves sono io ragazzi non niente dico solo che se io dico solo che se noi siamo la parte corrotta buona fortuna quella che resta non infatti più del cielo Waves finisci in carcere anche tu ci finisci ragazzi io non so che dire ragazzi calmi però vuole entrare col fucile vuole entrare no 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 ragazzi adesso lo chiamo io è sulla database dettatemi il numero lo chiamo da noi Waves ti chiama Pasquale ragazzi dai calmatevi sono cose in rp Pasquale 365 9293 pietra alison ti ha raccontato Marco alison per favore dimmi ti ha raccontato Marco sì mi ha raccontato sono in non so che fare cioè sono in centrale c'ho c'ho quattro persone c'ho cinque persone purtroppo non ne posso parlare in questo momento ho un sacco di persone in corno però tipo oddio cioè perché la sera è stata via siamo rimasti in quattro dunque vabbè lo so me l'ha detto prima mi devo tranquillizzare torna qua per favore vabbè ciao scusami voglio chiamarti per parlare con qualcuno il problema è che sono in mezzo a troppe persone non dire niente nessuno ok ok tranquilla scrivimi casomai ok è più semplice sì alison ciao ok allora ho una cosa io si prende un'ora di permesso un'ora di permesso si vuole entrare a vedere però ho detto che busserà alla porta e io gli ho detto che se se si fa arrestare anche lì lo vengo a reddò in culo con la sabbia tre potentemente non gli conviene allora dai rap e passa rap è finire perché se non gli rispondono dopo che lui ha bussato entrerà col fucile no non lo farà non entrerà fucile non penso allora dividiamo ste pattuglie forse sì io mi prendo io io nemmi tanto ho tuo tempo allora io and кварili dai riusciamo di partogli mia occupa ma è pure inculato la macchina bella roba una macchina e pasquale pasquale e convoco una riunione straordinaria per tutti quelli che non c'erano in questa città no non lo fare adesso non mi interessa non fare un cazzo ho capito però tu adesso non fare un cazzo perché il giudice ci ha detto non fate niente che se fai qualcosa ti vengo a staccare la testa anche a lei con il concessionario il concessionario devo fare rinnovo non ho capito in quale concessionario vuoi andare un attimo soprano devo fare rinnovo patente siete aperto il concessionario si a downtown ok vai vai downtown si crede da cazzo di pioggia devo fare rinnovo patente e vieni bello che ti rinnovo vieni ciao emily come stai tutto bene e dove ne sei ragazzi va bene spero che stai bene salve rio vieni qui che ti rinnovo moto e auto va bene bello per la polizia è gratis solo a questa convenzione da quando il concessionario come la sorella è il fratello della sorella bene sì 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 hai visto che ti ha trovato il posto ai ai piacere di comunque il mio parente ed soprano avrita naca ho visto che era praticamente solo con due figli a caro che era il meno che potesse fare infatti la devo aiutare devo aiutare infatti da solo a mia sorella se ha bisogno di qualcosa sa che la mia porta è sempre aperta infatti quando ha bisogno di un lavoro io l'ho trovato su un dato adesso lavoro a tecchino si è lavoro a tecchino almeno così è tranquilla se fai lavoro e poi mantenere la scuola poi i figli e i collegi e tutto quello che verrà va bene va bene ringrazio signor toni ma ci mancherebbe ciò io arrivederci chi è dimmi andiamo sergente sono stata un po stressata e abbiamo la posizione ci sono anche spaccato la capoccia si ciao che cosa eh vai in centrale ciao ehm sergente amelie io ho imparato a reprimere rabbia come meditazione eh io non c'ho il tempo per meditare cazzo oddio mio vedi in questo momento sono molto calmo eh complimenti a te ci manca una patente a tornare a concessionario vedete che situazione si risolverà presto non spero non spero perché si arrestano tutte quelle persone siamo finiti ma perché con corruzione veramente corrotto non ne ho idea non ne ho idea di cosa sta succedendo se li arrestano tutti siamo finiti salve ti arrestano nessuno 15 secondi che patenti ti servivano la B la B mi sei dimenticata vieni emily vieni eccolo qua una firmettina emily io mi ricordo che c'erei tutte vero? sul documento mi serve guarda che ecco aspetta che te lo prendo grazie ecco a te a posto grazie caro e buona giornata buona giornata a lei dottore va bene ora mi parla un bravato dammi un attimo che ti reddito anzi no non posso scusami eh vabbè non ti preoccupare no 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 non c'è un tecato da fare vabbè ma a posto allora ci vediamo in giro vabbè non ti preoccupare se no come va con il lavoro nuovi fratelli nuovi parenti eh c'è arrivato Eddie è arrivato Mauro è tornata a Zid a Zid a Zid ho andato a tempo che non lo vedo eh sì è il fratello di Eddie qua c'è Eddie che c'era Eddie soprano sì siamo già conosciuti ieri sono Wilson Raymond ah sono rincogionito mi scusi Eddie sarei jet lag jet lag brutto jet lag eh vabbè comunque dimmi ci serve qualcosa se hai bisogno lo sai la mia porta è sempre aperta come ha capito pure la squadra ha parlato di qualcosa mi ha accennato di stare attento se non sbaglio mi ha detto praticamente di stare attento sia tutto soprano e di avversarlo dei movimenti sai per quella brutta storia che mi hanno minacciato sì mi raccomando mi raccomando a posto io vado va bene ti ringrazio salve il signore che pomeriggio mi diceva di essere un poliziotto lui sì abbiamo Adrian dove stai? mi raccomando io la che? entra in macchina Emily scusami quella rapper è un agente? no sì sono un agente non è un agente sono un agente sono un agente non è un agente sì che lo sono sono un agente immobiliare vada a cagare adio devo mantenere assolutamente riservata questa cosa che appena successa non ho detto niente mi raccomando quindi cosa succede? non deve essere non deve essere e se mi dicono dove è capitano? gli dici che non è in città e se Maya Chan mi chiede? devo chiedere devo chiamare Maya merda Maya Chan Luna Leon Tenente Collin sono tutti gli amici devo chiamare Maya assolutamente ora faccio fanno no eh? forse è meglio di no no devo chiamarla devo partire che è successo è suo marito questo è vero ma gli altri? gli altri chi? non dire niente anche di Collin sono gli altri no la chiamo in centrale cioè la chiamo non neanche in centrale non è più sicuro ma perché ci sono spie in centrale? no è che ci si potrebbero sentire no no attimo lei mi pensi era un sacco che si può fare è un sacco che si può fare non ci sono spie in centrale non ci sono spie in centrale Ok, chiama tu magia, si posto Non trovo niente, nessun suo dato, nessuna parte Ve lo posso far vedere io il numero Ce l'hai? Ce l'hai? Non trovo il suo dato sul database Non lo trovo Ora chiama Luna-chan Il telefono non funziona Luna-chan, ecco Luna-chan Luna-chan Ma porca miseria Cintura? Aspetta, aspetta, Emily, 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 sono io Emily Ciao Ok, a dopo, sto stappando felicità Ok, ci vediamo domani Mi raccomando, stai attento Sì, sto tantissima Ciao Ciao Emily, buonanotte Ciao Shanti, buonanotte anche a te Ciao Ryu, buonanotte Buonanotte Scusami Buonanotte Buonanotte piccolo Che vero Michelle, vedo la situazione su un telefono Ma porca miseria, sì, molto probabilmente sì Questa macchina che corre così veloce non ci fa caso Lasciala stare Luna John, mi senti? Oh mio Dio, questi telefono Ma porca miseria Pronto, Ellison Luna? Ellison Oh mio Dio, funziona il telefono No, funziona Mi serve il numero di mail Dai La vuole il destraggente Deve parlare continuo con il mail Dobbiamo fare benzina Dai, grazie Dai Riccato Ok, me lo dà Ellison Non ti sento Appena ti arriva di me Hai Sarà in città, maia? Hai Si o no? Hai, si, si Non capisco Non ti sento Non ti sento Ampila Ma Non ti sento No ti sento E' U Un po' Oh porca troia Aspetta aspetta Che c'è? Eh I miei pensieri sono molto confusi Perché? Eh Devo chiudere gli occhi Ma io hai? Aspetta ti do il numero di maio Eh ma per sempre hai chiudere gli occhi Perdo mai No 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 Eh dimmi il numero 9 5 3 3 7 1 2 Grazie Eh aspetta un attimo che apro Che c'è il numero che dò gli occhi eh? Si Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non risponde. Spenga il motore. Che documenti vedi chi è? Spento il motore? Aspetta, io non lo senti. Mi dia il documento, per favore. Prego, è con lei. Mi ho dato pure la patente. Settimio o pistone? Settimio. Ah, settimio. Ok. Come mai andava sopra i 170 in città? Non lo so. Ho accelerato troppo. Stamacchina, essendo elettrica, non mi sono accorto dei giri del motore e ha schizzato il contachilo. Collega, venga, venga. Signora, 212 km. 112? No, no, 212. Ah, 212. Ma non c'è niente questo 200. Le applichi la multa del 5%. Hai. Eh, purtroppo le devo fare multa. Eh, vabbè, faccia, faccia. È il suo lavoro. 5%? Ti ricevete? Sì, 5%. Ti riceve Adam 3. Ok, allora, mi ha appena ricevuto un'informazione dal sottosceriffo Smith che il capitano e tutto l'altro comando hanno assegnato al ruolo... Può andare, ringrazia che non prendo patente. Eh, beh, vada rifà la patente, non problema. Siamo tutti sotto di lui. No, no, vada, vada. E io voglio ricordare che è un ex capitano. Mi ha dato la volta. Hai, hai fatto. 2.000 domini. Trattiamolo bene e facciamoci trattolo bene. Eh, eh. Eh? Eh, ci fa. No, sto parlando ai ragazzi, per favore se mi ancora mi senti. Grazie per il follow, Bronco Tisi, Fisi. Ma no. E anche ha schizzato, se Nicola su tu e c'è tutti, quindi che è. Eh, non posso volerlo. Non ha senso. Non ha senso. Sono orti del capitano. Eh, non vorrei infiarire. Io non voglio intendere male. Non parlo, non parlo. Non vorrei intendere male. Fino a prova contraria il capitano non lo è più in questo momento. Capito? Ha lasciato il comando a chi voleva lui. Sì, ok, ma il giudice deve decidere. Me l'ha detto il sottoscivico. Sottoscivico è già, il sottoscivico vuole dire che lui e l'alto comando hanno ordinato waves. Sì, sì, ok, ok, ricevo, ricevo. Sottoscivico è come il vice capitano. Sì, sì, sì. Non ha senso, però, va. Sottoscivico è come il vice capitano. Sottoscivico è come il vice capitano. Sottoscivico è come il vice capitano. maia che cazzo maia pronto sono i miei dove sei sono con mia sorella dove non ti preoccupare dove sei no arrivo in centrale ok ti mando la posizione apparence che ok grazie ma perché è un po' difficile dire alto con bronco eccetera eccetera meglio bronco adesso ormai in altra posizione ma appena esce da che parte ci viene il radio c'è c'è da notare che gli scivipi si sono materializzati non appena perché tipo poco fa no non c'è nessuno sceriffone momento in cui bisogna fare l'arresto a loro tutti che appaiono ai sceriffi arrivano tutti loro da loro questo non lo so ma che offrp ma c'è un regolamento nuovo sì ma in radio si deve parlare dell'nlp questo non è da sempre però qualche cosa al terapici può anche stare in canto comunque c'è vabbè io cioè tu mi sembra che è successa la cosa della stagessina ma ti sottolinei che ci sono uno o due tutti sono apparsi io sì ti dicevo lo che sei sono assieme alla signorina quale? quella che ha appena chiamato e dove vi trovate? dove vuole che ci vediamo? no dove vi trovate vi ho chiesto cimitero ok lo sa? sa tutto tutti sanno tutto e allora niente come tutti? non ho capito waves lei ha detto tutta la città no non ho capito e cosa fanno a saperlo tutti? l'ho detto a tre persone e se tre persone spero che tengano la bocca chiusa e che cazzo cambia? cosa cambia? cambia che potrebbero far creare disagio in città tu non hai idea di che casino potrebbe comportare qua cinque persone arrestate nel piano del departimento di cui cinque sarebbe un bel problema a parte che le persone che vengono a sapere sai come cazzo vabbè comunque è Michelle e dell'altra cioè quindi vabbè allora dopo siamo assai tranquilli eeeh di nuovo motorradio beh diteli di stare di non dar niente e non dar niente a chi hanno lasciato il comando Demi? il microfono hanno arrestato cinque persone dell'autocomando di cui capitano vice capitano tenente il chiaro della rovere e Romulo del rio erano arrestati tutti e cinque si arrestate in che posizione è questa? eeeh chiesa ah pensavo volesse andare lì no andiamo si lascia la posizione intanto ma ci andiamo dopo a basso si guarda giusto un po' oddio che fare che fai dalla finestra? eeeh dito medio per sdrammatizzare niente grazie per il follow it's net cappè mi dire vaffanculo eh 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 che cazzo eh e mo che succede? e mo... e mo... e mo... insomma è una merda questo tipo non so che ti linki io non è vero non è vero non è vero c'è ciao un saluto da lì da Tione a figlio voglio vedere se sono le sceriferie ma va sono le sceriferie oppure sono al carcere già non lo so devo vedere a paletto penso che siano in sceriferia secondo me paletto assenti eh non lo so mi vede più assenti si lo so che è a figlio ma... questa cosa della corruzione è vera? non ne ho idea e non ci credo neanche per un attimo non sono corrotti cioè ma non so dove si siano inventati questa cosa e spero che nessuno dobbiti di questa cosa eh ma senza prove ee... non so se hanno prove non ne ho idea non sono sicuro sarete lì solo a semplicemente parlare e stare sull'altro in un arresto ragazzi unitevi a tutti al Discord oppure mi schiamate col Discord quanto temi unitevi mi sa che... si sono qua eh... eh... si sono proprio bui sì... spero non mi viene da da una fastidio è andato credo che cazzo ma scusatemi signori avete bisogno di qualcosa? no stanno sapendo dove sono i nostri colleghi lo so è stato già avvisato uno dei vostri sergenti che al momento è al comando e non possiamo dire niente non lo so perchè io l'ultima cosa è rimasta al sergente io metti via sta cacchio di taser e poi andresti in mano per la tavezza e comunque vi chiedo se volete rimanere qua fuori ci sono le panchine guardiamo solo come sono ho giusto capire dove erano tutti qui sono si ma vabbè potete rimanere qua fuori però vi chiedo tanto la porta sarà chiusa ma potremmo parlare un attimo con loro no purtroppo il PM e il resto delle altre persone cioè il PM e il e il giudice hanno detto che possiamo entrare solamente noi sceriffi e il PM e il giudice compresa quindi vi chiedo per piacere di rimanere seduti tranquilli andremo qua si va bene si va bene vai ehm il milicione si io venga qua io potrei parlare con Cassandra no 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 non ha nessun potere Cassandra magari sa ma non è che ha potere magari ha sa cose no no possiamo non possiamo non facciamoci cazzi no riu li aiuteremo non mi preoccupare ma non ora comunque devo capire perché è stato arrestato io non lo so neanche io Emily ti dirò una cosa si ti ricordi quando il capitano è stato arrestato quando? no arrestato scusami si è l'orario il capitano è stato preso per rapina no quando? non mi ricordo quando cazzo è venuta la data fu catturato il capitano insieme mi sembra a Maya non mi ricordo non mi ricordo c'è stata rabbina e lui fu catturato ah non lo so io non è a porta come se non c'era te lo dico io forse mi sa che non c'era no era quei giorni in cui era vacanza eravamo al vanilla si e c'era sceriffo Thomas si quando ha scoperto che era stato capitano ad essere stato catturato da rapitori lui si è lavato le mani e è rimasto al vanilla è venuto dopo in posizione dopo tantissimo tempo è sicuro? vai io non ero ancora in polizia era molto prima di quando io entrassi in polizia e questa scena non potrò mai dimenticarlo cioè tirando dietro e dicendo ah beh tanto polizia tanto è il capitano non è il mio di pari ma bastarda ahia no no ahia addio porca miseria ora vomito tutto quello che ho mangiato prima eh addio ahia eh si è rotta anche l'auto porca troia ahia porca miseria ho capito che eh era informazione molto forte questa però iscritto sei entrato nel canale che è qua no via dobbiamo parlare di una cosa un attimo ragazzi per piacere dovete parlare ragazzi va bene sali su per favore ma ricordate parlare un attimo ma se ti dico sali su per favore santo crispino sei entrato nel canale mi chiamo meccanica serve un meccanico ho sbagliato porca miseria non mi rispondo chi ha chiamato concessionario chiamo il meccanico è mio errore signore è sbagliato eh mi sa che meccanico non c'è no vero c'è ma adrian non vuole lavorare mi sa non lo so dove sia qui ad am3 abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a prendere ah un attimo è venuto qualcuno guarda guarda sei pronto pronto è telefono di merda che non prende marca cinese però mi bagno tutto porca miseria vado dentro questo dicendo tanto non è mio dipartimento ah è tornato indietro e ha parlato con signorina mi ricevete si riceviamo andiamo con una scena a prendere se vuoi ma si è un altro incidente qualcuno riesce a venire dove siete siamo in altra posizione con una chiamata di polizia ma è ma prendo io per farla semplice per farla semplice eh posizione 1006 codice postale ma è in via della chiamata già mi è andata non mi è arrivata e arriverà etowase non so chi stava dicendo che arriva o che arriva ho detto che arrivo io ma mandare la chiamata me l'hai già mandata lei mi è arrivata a me non è arrivata rimandala ho provato io sto chiamando sto chiamando io eh perfetto eh ma l'ho mandata adesso non va? ragazzi non va? ah non rispondo eh non va mi sa che telefono non va ecco io non mi ho mandato un'altra eh non non arriva non mi ha dato un'altra è arrivata no mi devi dire dove sei così a mille a mille a mille sei uno eccola 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 è arrivata ok è arrivata adesso aspettate sto arrivando vicino a faccia in coda giusto sì circa 24 arriva mamma che felicita guarda ragazzi e quindi sargente è capitato questo sì le volevo la volevo avvisare di questo io di io ne parleremo magari in un altro momento vai ma non vorrei che sia sceriffo thomas in questo caso vedremo è mezzanotte per tutti sì grazie Grazie. Eh, un momento romanticissimo. Ah, però, poche persone. Allora, poche persone. Ehi, infatti, non avete la luna, porca te. Più, sei felice che piove. No. Così non vedi la luna. Ma in questo caso è vero. No. Ma, perché state qui? Perché ho fatto un volo. Eh? Ho fatto un volo. No, proprio la zona. Ah, volevo essere... Ah, perché... Boh. Passiamo, vai qua. Ah, ok. Ma è quello che uccide avanti? No. Ah. Trovate. E tu? Trovate. Ah, oh. Quella è foca. Non funziona il tasto, mi sa. Oddio, bisogna fare tutto il giro, mi sa. Ok, però... Ehi, questo è vero. Cosa? Cosa? Ehi. Che è successo? No, parlavamo della luna. E di una porre con la luna. Sì, prendeva pillole l'altro già. Sì, sì. Mi sono quasi finite. Eh, era che già era la parola. Eh, il dottor Ferrara. Tg.co, grazie per il pollo. Beh, oggi l'ho visto. Cos'è non dovrebbe parlare? Ah, mi sono dimenticato. Ma comunque è avvenuto una volta al mese, quindi... Ma guardate che sfiga, oh. Ma proprio l'altro giorno che stavamo in pattuglia insieme ti è venuta sta cosa, eh. Ah, io. Porca puttana. E questa macchina non ha stabilità con l'acqua, ragazzi. E parto in centrale? Ma giai. Che si. Tranquilli. Massimi riflessi. Io andrei un po' anche fuori di servizio per capire che cazzo stia succedendo. Meglio di no. Non sta succedendo nulla, Ryo, tranquilli. Siamo pochissimi, non posso un po' andare fuori servizio. Questo è vero. Non ci intromettiamo noi, Ryo. Ci pensano i superiori. Allora andiamo al tequila con mia sorella. Ormai andiamo a vedere un po' situazione al tequila visto che ho mia sorella da sola. Penso. E farei anche un po' di scorta. se vogliamo passarci andiamo. Per ve Rusia. Per la sicurezza. Per la sicurezza. Per la sicurezza. Quindi. Per la sicurezza. la sicurezza. E l'onomia ecco tu non ci sei allora quale dei due o questo no c'è laura ah ci dica sergente niente niente cosa? niente niente e niente prego grazie ma potete scendere così il parcheggio la mano si si ci serve qualcuno in centrale penso c'è qualcuno? forse no c'è il servizio no c'è il servizio no via si c'è nessuno sei entrato nel canale che siete facendo con il suo momento? siamo impegnati a fare? siamo impegnati senti che cosa stai facendo? siamo impegnati e non ti dico un cazzo adesso mi muto da l'alte perché non mi vedo un pericolio perché no? ma perché devi venire qua in tessar cioè a dirci cosa stiamo facendo stiamo pattugliando stiamo pattugliando stiamo pattugliando siamo in giro stiamo insieme perché stiamo discutendo di una cosa vabbè oh niente ok 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 Grazie. 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 comunque molte ripi che uno ufficiale 2 diventa capitano e e quegli anziani no certo non esiste nessun mondo che sei poi esci adesso ci penso io poi vediamo non esiste mi interessa grazie grazie lena grazie per il ride grazie mille ma ha sbagliato macchina porca miseria ok ciao 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 però però mi sa che devi guidare è appena rinnovato patente è appena rinnovato patente grazie mille a tutti ma sto guidando quindi vedrò poco la chat scritta sull'emotico adesso sergente wilson dove andiamo non ci riferiamo anche nuovo non posso escluderci quello lì era il capo che è uscito prima a parlare con noi si era un sottocere lì fuori ciao ciao lena buonanotte ciao un abbraccio ragazzi unitemi tutti al discorso del punto di scorta collegatevi al link ma tu non hai più i droni tu non hai più i droni sto momento oggi no 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 ecco il lato ultimo ma quanta gente c'è ma che cazzo la madonna ma l'ha detto a tutti l'ha detto ma cosa ha posito il presidente ma l'hai detto a tutti mio mio ne sta andando ma scappa si era davanti anche secondo me è chiaramente un blocco ma che cazzo sta facendo un blocco ma un blocco per cosa perché sta per fare una cazzata secondo me ma infatti non ho capito che cazzo sta facendo cosa sta facendo vediamo se mi dice che stai facendo perché ho un pompo in mano che cazzo ne so per la sicurezza della signorina che sta da minacciata con l'anonimo sì gli eronimi che rompono le scatole ma non hanno ancora non ti dicono cosa cazzo succede? eh senti ma io non ho idea io sono in realtà in centrale perché io volevo andare stavo sistemando delle cose ma soprattutto arrivano 5-6 c'erano 10 persone tutti insieme attaccati in gruppo il mio magistrato c'è siete in arresto per il magistrato il giudice o serena? il giudice o serena? abitano dalla polizia che ha cercato sempre di proteggere i cittadini ottimo bel procuratore adesso ti scrivono porteremo queste situazioni tutti insieme sì a parte a parte perché ho messo le macchine così a parlare se sono tutti innocenti e vincere di un cazzo ma che è restato se fai una cosa la faccio anch'io capito tu ora mi dici che cazzo stai facendo che finché non viene condannato è sempre innocente a prescindere poi si vede ciao lupite la usciglia puoi venire con me 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 oddio ma che si deve abiticiare dimmi leon arresto lo sceriffo arresto il vice sceriffo sotto sceriffo di sto cazzo eccetera 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 va bene facciamo la gara di chi ha più manette ma che è sta cosa con le macchie ha un significato almeno merda soprano eh ha un significato sta cosa con le macchine almeno si ha un significato eh bene no perché se no io di un per favore mi devi spiegare io voglio si qualcuno non te l'ha perduto questo lo so lo so so che sei arrabbiato ma stai calma risolveremo tutto ragazzi andiamo sotto dal coperto non sotto l'acqua si 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 perché è la vostra difesa è troppo aperto ovviamente scusi siamo qua che è più sicuro è più coperto questa ma lì on devi capire bene è più importante arrestare la gente a cazzo piuttosto che arrestare i colpevoli veramente Michael Wes fatemi stare zitta dai vi vidi e ti impera la penso proprio come te io oddio che sia una cosa stupida e tutto che non ha senso ma fare cose esagerate senza neanche un minimo di contenuto è peggio al momento non ho fatto niente no ok ma sentivo parlarla quando parlavate e quindi si risolverà tutto in modo tranquilli ragazzi non hanno fatto niente sei sicura? ragazzi perché mi hanno appena detto che rischiano quasi tutti quanti di perdere il posto di lavoro due rischiano rischiano di farsi farsi molti anni di carcere non dicono perché devono farlo ma proprio perché loro rischiano vorrebbero che voi rimaniate al sicuro e al comando non vorrebbero che loro che voi faceste le stesse loro cazzate concordo con Luna vedrà che si risolverà tutto in questo momento loro hanno bisogno di voi non hanno bisogno di persone che vanno a lottare a fare cose noi lo stiamo lottando no vabbè ma io dico se tu pensi quello che penso che tu debba fare scusi scusi sergente finiresti finiresti anche tu nei casini non penso che capitano vorrebbe questo ragazzi noi non dobbiamo fare niente no però non voglio parlare prima sai non dobbiamo fare niente non siamo dei bambini arrivati due secondi e dobbiamo piangere alla mamma sappiamo quello che facciamo se non volete fare quello che facciamo avete la macchina per andarvene via lei come si chiama io si sergente pasquale soprano io sono luna matilda e si fidi in questo momento stiamo cercando di aiutarvi in tutti i modi possibili cerchiamo di essere collaborativi perché non si tratta solo di persone come il capitano della polizia o il tenente o il vice capitano ma si tratta anche di persone a cui vogliamo bene cerchiamo di essere tutti quanti collaborativi e andrà tutto per il verso giusto noi vogliamo essere collaborativi lo so infatti e io appunto sulla vostra io non so cosa vi viene in mente mica li dobbiamo sparare in testa tutti quanti appunto so benissimo che non avete questa intenzione si ha detto che deve medicare la roba la ferita che cazzo ne so ha detto quindi sono stati colpiti il tenente è stato colpito qualche tempo fa è ancora una ferita si si proprio per quello ok si ieri gli hanno sparato ok vedi luna si fanno sparare questo è il risultato ragazzi so che siamo tutti quanti arrabbiati fidatevi in questo momento a stento mi freno anch'io ma sto pensando cosa farebbe Cornelius cosa farebbe Collins cosa farebbe il vice capitano Collins sarebbe già entrato lo so assieme al vice capitano e non sarebbero entrati qua non sarebbero stati qua a fare posizionalità direttamente col gol in data ragazzi dobbiamo cercare di aiutarli per gli asoprano e i qualsiasi non sono a seggio o a paletto a seggio perché a voi si lo so Maya lo so ti puoi arrestare ma io sinceramente non è la prima volta il rischio della mia vita per una palloccia non so lei ma a me un in meno un in più non mi cambia quindi se per la giusta se per la giusta situazione non avrò problemi Leon vieni con me lascialo fare così perde pure il posto da capitano un microfono attivato cioè guarda vabbè concordi Emilio non dili niente lascialo stai pugnando male il fuziere Dani Pasquale guarda quello che ha letto lui no ok perfetto perfetto dimmi Agatha infatti devo sapere sì lo so lo so ok ti spiego un paio di robe offre in più domani eh domani sì 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 adesso mi vado a letto comunque ne parliamo con tranquillità sì mi dica dove è ciao dove è dove è mi senti sì dove la signorina con i capelli blu sì mia sorella dove dentro sta medicando il tenente chi c'è a parte lei dentro c'è una gente che fa sicurezza sì c'è lo sceriffo con loro tra quanto venga quando va tra quanto si può parlare parlare in che senso signori non dipende da me chieda i suoi superiori se ne non lo sa dipende dalla magistratura della magistratura ci sono degli interrogatori i suoi colleghi sono in stato di fermo in questo momento ci sono degli interrogatori noi lo so dire e quanti ne avete interrogati non sono informazioni che posso darmi non le ha chiesto i nomi non le posso dire nemmeno nessuna informazione guarda me ne va bene arrivederci arrivederci si va bene va bene vai a credere ok un altro abbraccio un ultimo ci vediamo prego tenente mi segua per favore prego grazie michael tutto bene sta bene sta bene torno michael tranquillo un secondo prego non c'è ma è niente chiudere tutto e sento la mobilità vado andare via sti qui se no riprendo schiaffi in faccia se loro hanno proprio al bene grazie e solo sono accuse ok o magari hanno messo prova e fasù o magari non lo so vabbè o magari qualcuno li ha vintuti o magari posso dire puttanata dire che sono stato io e romulo che deve s'arrestato non sei stato tu io non sono stupidi e questo cioè io fai da essere per senso oddio forse qualcuno si sono sempre non ho messo a servo dalla robetta non era chiusa la chiave la porta l'aperta no ho sempre stato al colo come non sento un cazzo anche lui la chiave ha arrestato il capitano vicecapitano tutto l'altro comando e c'è casino e adesso non ho capito che cazzo succede vedremo vedremo con il tempo è chiusa ok ma è chiusa? si si è chiusa ma io non ho visto che è chiusa lei faccia che è chiusa ve lo spiego ho il badge automatico ok dentro si apre chiude in automatico e chiude in automatico grazie al nostro signor Ciocia si si ex presidente abbiamo anche questo oddio che purtroppo è caduto grazie a ti è caduto a me è dispiaciuto mi stava simpatico certo voleva solamente non fare fare figlie donne no questa non l'avevo ancora sentita voleva solo un figlio per famiglia un figlio e ha chiamato mia sorella animale non voleva gemella allora andava ammazzato l'avete ammazzato? ma come si andava ammazzato? penso si è scappato peccato ha scappato su un'isola gli avete dato un motivo per odiare l'ex presidente avete bisogno di qualcosa voi qua fuori? signori come? avete bisogno di qualcosa qua fuori? no grazie questo lo sa andiamo va bene ok torniamo alla postazione io non ho ancora capito se hanno prove o meno aspettiamo un interrogatorio da quanto tempo è che vanno a? ne faranno una a una 40 minuti ne faranno una a uno si li stanno facendo una a una serena chi li doveva difendere eh c'hanno l'avvocato no ma è arrivato Sean in città credo che stiano portando loro la faccio qui eh la posso entrare per un breve periodo? no no guarda faccio così mi ha manetti e mi trasporti dentro e poi mi sporta fuori ok hai capito molto semplicemente si si grazie mille ecco qua grazie prego grazie mille maia si se vuoi da qua vedi il capitano vai maia da qua guarda dove stavo guardando è dentro la cella non è niente peter spero si stanno invelocemente sto problema potete darmi fuori da qui se volete se non resto qui scusate scusi mi sento offeso si mi ricavi sia lontani sceriffo grazie sta tornando waves no prego guendi stava arrivando ma se te lo testata sirope vetro ti rompi la testa si ragazzi basta direi che mi ne serveggia bravo bene michael ti prego c'è regà guarda che vedo cosa che vedo un cazzo dimmi Icaro ok lo dico subito guarda con piacere che cosa bussa arriviamo è arrivato Sean ragazzi qualcuno comunichi gli sceriffi che gli interrogatori sono appena sospetti è arrivato l'avvocato bussate subito che se io la sfondo da sta porto ma l'aveva chiusa la chiave posso tirare calci sì potreste anche tirare di calci non lo sape che mi rimane immediatamente ve la sfondo se non vengono qui mi avevano visto mi avevano visto Michael calmati Michael calmati per fuori signori è arrivato l'avvocato vorrei comunicarvi che è arrivato l'avvocato è un po' troppo tardi per l'avvocato dovete per favore sgomberare il posto signori sì ora potremmo vederli hanno ancora diritto all'avvocato non è possibile hanno diritto all'avvocato durante il processo sgomberare completamente il posto mi ascolti un attimo mi ascolti mi ascolti sì un attimo naturalmente se volete potete ascoltare insieme a noi i vostri colleghi al carcere mi ascolti insieme a noi come al carcere mi ascolti con che prove scusatemi con che prove vi state restando michelle aspetta un attimo mi dica ho parlato con lei prima che mi ha detto che dopo gli interrogatori potevano parlare ha parlato con me ho detto che c'erano degli interrogatori non si poteva parlare esatto non posso farlo quello che vi dovrà essere ci saranno le visite cosa che a me non piace ascolti io continuo non so perché state ancora tutti qui il tenente è stato medicato dobbiamo scortarli in carcere ci serve via libera per uscire da questa stazione degli sceriffi quindi vi chiedo la gentilezza di spostarvi ok posso parlare con lo sceriffo che prima mi ha detto che dopo gli interrogatori avremmo potuto parlare con loro che ne eravamo che ne eravamo qua apposta ci sono stati qua per quello c'è stato solo un messaggio da riferire dal vostro attuale al comando alla polizia ed è stato riferito via radio quando vorrà parlare con i vostri colleghi potrà farlo in carcere innanzitutto dobbiamo scortarlo in carcere signore e quindi mi sta adesso dicendo chi è West chi è West come si chiama West si chiama avete un collega che si chiama West no ho mai conosciuto no come si chiama Termi di terminate il come cavolo si chiama il collega che dovrebbe prendere l'alto comando della polizia io l'ho già comunicato e chi è come che aspetta un secondo ah mannaggia non è Waze Waze so io so io allora lei sarà l'avranno informata che adesso il comandante no non mi ha informato nessuno allora lo informo io in questo momento ah si questa cosa lei da ora ha il comando dell'intera polizia perfetto da capitano del dipartimento di polizia si so io posso decidere da capitano del dipartimento ah ah sceriffo si posso parlarne lei in privato dentro parlare con me in privato certo con lei si grazie si tolga l'arma mi raccomando faccio un attimo scusate io una cosa voglio capire adesso c'è una volta che vanno in carcere ci sarà ci sarà modo di poterli vedere ci saranno la possibilità di fare delle visite ci saranno delle visite ci saranno delle visite da poter fare poi se ne parlerà dopo non 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 veramente tanto capisco che magari sia tosto che si dividi e tempera lo state facendo proprio bene ragazzi ma ragazzi se non ci sarà veramente nulla da nascondere penso che il processo andrebbe non per il resto io non so nulla mentre una città va allo sbaraglio abbiamo gli agenti più bravi di tutta lo santo il capitano il vicecapitano i tenenti abbiamo non so quanta gente è stata minacciata in questo periodo quanta gente è perseguita dalle persone ora quando inisseremo a morire uno per uno ci metteranno due secondi a sapere che cazzo sta succedendo vorrò proprio vedere poi se vi scommo avvenire noi qual è il mio di queste adesso una domanda voi siete agenti in polizia giusto affermativo esatto quindi in questo momento voi vi state diciamo denigrando dicendo che dopo che cinque dei vostri capi che vi hanno addestrato che vi hanno dato la preparazione ho capito dopo non si stanno denigrando stanno solamente dicendo che cinque persone con i contro che stavano salvando la città da sta merda li avete presi e li avete messi in carcere questa è la questione questo stanno dicendo ho capito io non so minimamente per quale motivo siano in carcere ci saranno dei motivi ci saranno le prove non noi fatto sta che se veramente si è ma dov'è il problema maia adesso ci sono gli seriffi a proteggerci no eh siamo a cavallo iha proprio iha signore si è agenti di polizia i seriffi sono agenti di polizia quanto quanto gli agenti stessi non capisco dove sia il problema appunto siamo a cavallo nulla a togliere a te Cassandra non parlo di te assolutamente parlo di tutto forse sei uno dei pochi che si salva qua dentro confermo il problema che quando il problema è che tu sei l'unica mi sa che si salva là dentro e te lo dico io ma se dite sceriffi comunque siamo un unico corpo anche la polizia è un unico corpo e sono tutti qua per loro appunto infatti io non li biasimo vabbè comunque vediamo come fare per poterli vedere così almeno vedo mio marito ma di fin di cosa Fiden cioè non posso fare nulla se inizio ad attaccarci se inizio a fare qualcosa non è che sono corrotta che non posso fare nulla allora signori potete sgombrare tutto certamente grazie gentilissimi beh che cazzo ma Fiden non posso farci nulla sì adesso mi metto qua inizio a fare problemi ma perché vi hanno ammanettato non li abbiamo ammanettati sto facendo da solo da solo ok 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 ah eh Serena è sabato il mio stipendio è venerdì il governo non me l'ha consegnato non ci possiamo fare nulla il governo è corrotto non vi fermate non vi fermate faremo possibile per aiutarvi ragazzi non serve nessun aiuto tranquillo io sono stato accusato di estrazione di armi dai 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 prego vado avanti prego Icaro via posso salire ragazzi sì prego che ci mette le cinture non c'è il biglietto chiedo di non fare gli spiritosi per favore vado con l'espirito ha già già questa situazione capitale sì ma fai come me fai il superiore sì Collin ehi Tanaka Tanaka allontanati dal busta eh Tanaka se ti fai togliere l'istintivo da Michael ti licenzio prima io ma dov'è quel pezzo di merda di Michael bene possiamo andare aspetta che prendo questo appena posso beh partite estrazione di arma ma quando ma che cazzo stanno facendo ma che cazzo stanno facendo estrazione di arma accusato per estrazione di arma favore ragazzi voi siete in macchina sì siamo stavolta mercedes salio grazie per scuola grazie arrivo vai con Wilson rimarranno lì per molto aspetta che chiamo Waves vuoi sapere dove cazzo è finita sì sali no Mercedes sono molto confuso le mie parole come estrazione di arma esatto ma che cazzo non sono stanno diventando cazzate ma Waves non mi risponde dove cazzo è finita è qui è quella davanti a te ma chi è stato accusato per estrazione di arma caro no Waves è accusato anche penso che sia lo sceriffo in che senso estrazione di arma in che senso è stata accusata per estrazione di arma ma che cazzo vuoi andare con state ziti un attimo cazzo tu puoi andare a controllare sotto vado a vedere aspettatemi qua vai a chi si muove vai a chi si muove in culo con la sabbia faremo il possibile per aiutarli scusatemi hanno accusato Icaro per estrazione di arma non lo capisci lo capisci che sono tutti dei coglioni ragazzi ricordate l'annuncio che è stato fatto dividi e ti impera quello di ieri cosa stanno facendo tutti in macchina aspetta lo dividendo trovare la verità vieni un attimo vieni un attimo chi? io tu e michele venite dove vanno adesso? vabbè dove vanno? non lo so emilio ma poi non capisco questa roba di parlare lontani segreto se andiamo in macchine mentre andiamo sono in macchina con Waves e Pasquale qui ancora la scireferia stiamo venendo verso il carcere sì ascoltatemi voglio vedere le prove voglio ci voglio vedere le prove le prove che hanno contro di loro non è venuta al carcere ma è un cazzo pari io lo seguo pure ragazzi che cazzo che cazzo frena ma voi i fari li vedete dopo domani fermate allora dov'è cosa voi tre salite nella gran victoria a sinistra io arrivo dopo e parlo con magistrato come non è città non è città ma città quando serena e che cazzo quindi è serena che ha deciso non è magistrato vabbè andiamo andate aspettate partite eh voi partite cazzo cazzo da fa qua non so cosa saranno neanche contro ragazzi però io io vado lasciaci qua di fianco questi ombrelli qui aspettiamo che vado via 30 mesi Michael mi fido di te ok Cristo ora che ora che cazzo mi sgreda dietro ok capitano waves sì ma anche io devo andare vorrei essere vado io vado io vado io ok ok no aspetti aspetti è solo waves fatemi fatemi comunicare un attimo il video che sto entrando signori michael waves chiede di entrare non è che chiedo io sto entrando punto e basta cacere condiviso nel cancere cassandra dove il magistrato non è la più pallina idea Michael waves entrata serena serena dov'è dentro non so penso sia vado a parlarci no 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 fermi fermi cosa mi hanno chiesto di non far entrare nessuno e a me mi serve serena e ho capito aspetti che esce aspetti che questo qua al dato non è non è il carcere vostro e neanche nostro è condiviso l'ho capito l'ho capito mi hanno chiesto di non far entrare cassandra a me serve solo serena serena non serve a niente aspetti che esce non so perché sia lì e mezzo eh gli puoi chiedere gentilmente se mi manda serena qua è una cosa importante posso chiederlo ecco fammi sto piacere grazie servirebbe serena fuori dal carcere la cercano no ragazzi ma che cazzo sono io non mi neanche non mi riconosci più eh no ah perdonami cerca il detective soprano eh sergente sergente soprano Fidel io non sto capendo un caso ma il cerifo soprano che sta dentro di partimento di ceriferia non è tuo cugino o tuo fratello o qualcosa è mio fratello e allora porca puttana non puoi parlare con tuo fratello no mi serve serena perché il mio fratello non serve a cazzo i polizi ah bene ah e mi serve serena per un altro motivo lasciate pensare cazzo stanno facendo tutte le cose differente poi c'è quei che preme quell'altri che non ci fanno entrare quelli che non ci vogliono quindi sta uscendo ma che cazzo no quindi rispesta è questo addio si eh ti devi mi scusa non ce la faceva eh no ecco appunto no non ce la faceva sembra di guardare la partita dagli spalti non ho capito qua no ma ma non capisco nulla adesso non capisco nulla fiden perché tipo cioè stanno facendo tutti i scerifici stanno tenendo completamente all'oscuro poi c'è sopra cosa vogliono fare poi dico la mia dico quello che voglio fare io gli aiuto cioè ragazzi non è che non faccio nulla io vorrei fare ma se se quelli lì cazzo soprano e wales mi tengono all'oscuro ragazzi io non posso farci nulla e questo è il fatto fidel quindi il problema non è mio ma è loro dove è loro dovevano fare tutte le cose in due cosa vuoi fare gli eroi in due non mi fanno entrare capisci c'è cassandra sei in mezzo sì un attimo ce la capisco se non sta gente ma la sto calmando non conto nulla io eh lo so che mi tengono male per colpa delle live però cioè almeno cioè non c'entra nulla la gente non può fare metade però vuole rendermi utile entrare dentro parlare e tutto però se se poi Icarus decide di far fare a Waste 8 io non posso farci nulla se Icarus dice Waste prende il comando io non posso farci nulla Cassandra posso vedere almeno Collins oh no sono usciti erano loro e lui che sono il responsabile della polizia quanto pare scettati Icarus e se vuoi se vuole e il bene è entrato io non posso far nient'altro lo congiungo ti bisogna mi serve a Serena no tu vieni con me immediatamente pure Pasquale prima parlo con Serena tu vieni con me te lo dico io e io prima parlo con Serena Pasquale ci calviamo un po' tutti Luigi io sono calmo Pasquale e non sono neanche entrato quando avevo la facoltà di entrare perché anche metà carcere è nostro allora vi dico che il giudice ok anzi PM lo dica lei il giudice ha ordinato che nessuno deve fare visita alle persone che sono in carcere ma io stavo entrando in carcere ma io infatti non sono entrato vi sta venendo detto almeno siete informati intanto io vi avviso io non sono entrato sono qua appoggiato da mezz'ora sotto la pioggia sto aspettando di parlare con te dimmi in privato possibilmente ecco vedi in privato che devo accompagnare loro Pasquale per favore eh certo eh volete la pistola? mi sa mai no che mi partisse nervoso no non ti preoccupo se poi gli scordi tra che se dopo non ti preoccupare ma i signori laggiù invece che di cosa hanno bisogno parenti 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 di persone innocenti arrestate da persone ma lei che ne sa ma lei che ne sa ma lei che ne sa oh mio dio senza parole ma senza parola senza parola c'è biozza che cosa devo fare se io adesso mi oppongo se io mi oppongo biozza adesso mi dico cosa rischio rischio tutto rischio cioè almeno adesso c'è ancora qualche potere di mano ma sì nel suo intro faccio il cazzo che voglio faccio il coglione che va oltre le leggi cioè non vado avanti arrivo alla piazza del cancello che mi arrestano si stanno si stanno coalizzando contro di noi e non ci informano su nulla cioè non fino a prova contrare siamo ancora agenti di polizia e signori e il giudice se avete problemi parlate col governo va bene parlate col governo prego arrivederci l'incompetenza è una brutta bestia va bene allora va bene dai arrestano oggi per cosa per un'opinione personale no 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 signori signori non ha commesso non ha commesso alcun reato ah infatti mi sembra un'opinione personale e pubblica esatto quindi e non è specificato alcun soggetto ho insultato lei non mi pare ho detto l'incompetenza è una brutta bestia esatto scolta arrestarmi arrestatemi così finite anche voi dai sto difendendo metto la pistola dentro sto difendendo le signorine in cui minaccia ma noi qua non facciamo niente ci vediamo con armi in mano non siete voi la minaccia vada via non siete voi la minaccia non siete voi la minaccia dall'esterno dall'esterno vada via signori dovete sgomberare la zona ordine da chi marghe da sopra ce ne andremo ce ne andremo ce ne andiamo voi due salite in macchina sì sì serena serena sì dimmi posso saperne qualcosa e se ti assumono come avvocato sì altrimenti non posso chi l'ha contattato scusatemi non sono riuscita a contattarlo perché non era in città non sono possibili le mail le possono mandare quindi gli faccio solo mandare la mail va bene scusami che devo accompagnare loro shon scrivimi un messaggio magari ma chi è che le lo riferisce quelli dentro di mandargli le mail lo dovrebbero sapere sono poliziotti cioè è sempre stato così emily ok ma qualcuno mandava mandava le mail a shon scusatemi cioè ok allora qualcuno dovrebbero saperlo gli è anche stato detto prima di portarlo va bene sei stato detto a posto allora vanno in modo di contattare shon shon se hai bisogno scrivimi per messaggio che accompagna un attimo la detective chissà com'è la cocaina deve essere una bella sensazione da provare lion lion che cazzo sta dicendo che sta accendo lion lasciate stare lasciate stare è solo scosso e traumatizzato è già andata la bella che è andata oh porca michelle ci pensi tu a fare che cosa di preciso dove è il giudice dovrebbe essere il nome cosa è successo lo so ci vorremmo attaccando no oh scusa scusa se però non mi dai un pugno sarei anche più contenta sergente sì scusa dov'è pasquale sergente pasquale scusa scusa ok ragazze vedrete che con la calma e con tutto si risolverà tutto adesso dobbiamo solo aspettare un momento emily io ti dico una cosa solamente tu non ne hai in questo momento io mi sento bloccata mi sento scavalcata da tutti mi sento mi sento di valere come come quella vuota della macchina lì mi sento ancora lì il mio valore in questo momento beh beh puoi anche dirlo una merda non conto non conto un cazzo in questo posto emily stai impazzendo io sto impazzendo sono troppe cose troppi giorni tutti vicini emily calma signorina proveremo il modo di risolvere la situazione di risolvere di risolvere si attendiamo si ovvio che non ci spostiamo senza di lui comunque emily una sola cosa tranquilla perché tanto se le cose vanno male chi deve pagare paga seriamente punto quello sempre pagheranno sempre tutti ok ci sarà giustizia e parlo di giustizia quindi manteniamo la calma grazie si era un po' se questa la chiamate giustizia a me non sembra manteniamo la calma perché io incazzarsi si arriva al fondo ma io sono calmissimo io sto pensando come cazzo farli uscire dalle con il processo possono aspettare ci sarà un processo lo faranno pagheranno se devono pagare arriveremo in fondo a questa questione chiudi qui il disco non sono io che te lo devo dire il disco di Sean è un buon avvocato riuscirà a far tutto riuscirà ad arrivare in fondo sei un po' ma è solo che in questo momento io cerco di fare quel coso cerco di agire io cerco di agire non posso non posso non posso non posso non posso ma che schifo sono cose regole sono regole di merda sono regole di merda non è possibile che una persona non può ricevere visite non so mai visto mi ha appena dato un comunicato padone mi ha dato un comunicato piano su data pesa si ecco sotto ordine da giudice durante il periodo di custodia cautelare nessuno possa far visitare con lello sponda michael con il tutto in calo della rovere e in pallo verrà preso non voglio vero io io non so che dire c'è senza parole non c'è nessuno no eh ve lo vedete se non c'è nessuno ecco infatti ehmni tu hai i droni eh si ma se vuoi rimbio da qua ne muto un attimo perché vorrei a spalle ti chiedi una cosa eh muta lì sì in questo momento mi sento valere nulla ma se voi mi scudete sento ancora meno muta muta sti droni no grazie 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 è troppo strana questa storia è il gastolo che cazzo è cioè top ragazzi 37 spettatori grazie a tutti per essere qui mi raccomando lasciare tutti il follow e gli iscriviti al discord appunto iscriviti al discord ragazzi continui al discord voglio vederli anche spretti i bidoni sono spretti i bidoni gialli lì in mezzo boh non ci ho mai fatto ah quelli per terra sì io so che sembra brutto da dire so che i caro o per p so che i caro ha combinato qualcosa che ha fatto quel che ha fatto però i caro 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 mai lo riceverai qualsiasi che continua così vai tra poco non so nemmeno come cazzo campare ma che soldi hai in banca no no ce li ho ce li ho dovrei verserli in banca 8000 sicuro qua 9008 9008 vabbè ancora ci vedi vabbè non so capito più un cazzo hai spento droni? no no non sono ancora accesa cosa mi volevi dire? guarda direi cosa non so mi devi dire qualcosa no no niente niente che fine allora ragazzi lei vada ma sono solo 30 spettatori sempre ma questa cosa ha fatto il boom questa notizia ma che cazzo sto vedendo signore sia sul veicolo per favore sta bene dolore mamma mia questa pioggia chiamo l'ambulanza si sto bene no sto bene sto bene posso li al suo veicolo fuori? ho fatto una botta al ginocchio cosa? posso li al suo veicolo fuori? si si certo spenga il motore si ma vabbè posso vedere se lo commenti per favore? lei guidava molto male ok eh lo so che guido male che c'è questa pioggia guidabile se vi è Nicolai Nicolai Pietro Pietro Poposchi sei conto di Mosca va bene è suo sto veicolo? è del campo di golf e perché lei viaggia con questo veicolo? eh? perché lei viaggia con questo veicolo? non ho capito perché lei viaggia con questo veicolo in questo momento? perché l'ho affittato sì certo non si possa affittare al campo di golf sì che cosa ne sale? in questo momento vogliamo andare al campo di golf a chiedere? vogliamo andare al campo di golf a chiedere? signore la legge parla chiaro il capitale deve stare nel veicolo no io l'ho affittato ok punto il capitale deve stare nel veicolo e quindi di chi è? e quindi non può viaggiare con un veicolo di chi è questo? scusa hai capito? sì ma di chi è questo allora? che cosa? il suo veicolo è del campo da golf ecco e lei non può viaggiarci senza capitale ah ok ma quindi il campo di golf deve stare sopra il veicolo sì esatto le può usare solo le carri e come fa? ma boh signore senta io per l'abitarò la multa del 5% per la guida pericolosa no sì invece lei ha scontato vabbè sì per guida pericolosa sì e per furto di veicolo non lo faccio però sapete che se volete ancora agire con questo lo applicherò oppure la porta centrale per furto di veicolo perché può circolare con questi veicoli non autorizzati va bene perché qui qui io lo vedo l'ultimo è sulla targa ok certo è del campo da golf sì eh mi scusi ma io qua io l'ho affittato poi mi hanno detto sì vai un attimo lì a prendere da bere a negozio di cose io qua poi ho sbandato perché c'è pioggia perennemente e che c'entra che è un veicolo elettrico che c'entra l'ho fatta la multa? allora bisogna asserchiai Nicola Vincenzo Vovovski sì lei ha dei pc senti penali per il fumo della polizia noto anche ma no ma è colpa di mio fratello quella non c'entra niente e altre cose vabbè mi applicerò la multa per fronte per che è pericolosa ma non la voglio più vedere con questo veicolo in giro va bene sì sì certo ok va bene sì mi scusi che io non lo sapevo qua cioè me l'avevano detto vai al negozio di di alimentari che non c'è nessun problema ti dovrebbero fermare che è affittato al nome del campo di golf tu l'hai affittato 500 dollari l'ora cioè che sono quelle costose ecco qua lo porti al minigolf che non può piagere con questo vabbè vai vai lo porti al minigolf sì 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 lo porto mi fate ragazzi vabbè mi faccio domande non fa che siete quello di disco però mi sparirà poi ma se ma il momento quindi se dovesse succedere l'irreparabile cioè hanno hanno ergasto non so che dirti un attimo ho creato un annuncio sul database la corte di los santos vista è considerata la mancanza di vigenza e per ora come se hai dato faccio niente in quale non stai con l'ordine per il resto del suo viene per la noterà ok 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 grazie per il follow zombie buonasera Ma dove sta scritto? E' rimanato i ufficiali Ancora con sto veicolo Sto andando, sto andando al campo da golf, mamma mia Sto andando, sto andando, sto andando al campo da golf, ma c'è non so, mi hai del tempo per fare manovra, ma sto qua già slitta di su, ma c'è pure la pioggia, cioè non lo so, cioè mi scusi eh, gente illustre Senta, senta, se io giuro che la vedo ancora in giro è che la direzione del middle goal velocità io la resto Sto andando, non è che c'ho unissimo su sto trabicolo qua, arrivederci Ehm, ma che cazzo? Chi ha risposto alla chiamata? Ehm, mamma mia Io, è scusa una bomba di benzina a Sandy Shorts, andiamo Sono feriti? Si 14, il collega Pasquale Soprano dove è finito? In centrale, andiamo noi Andate voi, andate? Io e voi, io e... Ok, ma Soprano dove è finito? In centrale, deve fare una cosa Ok Dove sei? Dove sei tu? Che cazzo ho appena visto? Che cazzo ho appena visto? Si, io ci parlo Eh, all'aeroporto di Sandy Shorts Vado a vedere adesso Ma l'ho visto solo io Non so dove è l'alto strada No, l'ho visto anch'io Ah, ok Ok, qua Andiamo Zombie, evita che ti direi queste cose madonna, sto fai Per fuori zombie, non flammiamo per favore, che poi rovo Già le acque sono molto... Ma che giù? Soprano Ti rendi conto che il momento in cui Si è stata la serata Avevano 5 spettatori Eh? Il momento in cui Al resto è capitano Ok, un piccolo 32 spettatori C'è la metà di te 30 persone Capisci? tutti curiosi, siamo pari sul posto, usciti da Sandyshaws Siamo qua Tutti curiosi a vedere la live, mamma mia, guarda, guarda, tutti curiosi a vedere cosa succede Dio mio Adam 3, 10-23 Ci sono dei corpi a terra Qui Adam 3, ci sono dei corpi a terra 10-4, arrivo in posizione Oddio mio Sono l'una di Onnation Oddio, chiama America Ci sono, ci sono E percatroia Sono Wilson, qui al rapporto di Sandyshaws In seguito dell'esplosione di una pompa di benzina Ci sono tre corpi a terra, tre feriti Maia, ma tu hai visto tutto? Sì, abbiamo visto tutti e due tutto Stavano per fare benzina E sono andati a sbattere contro pompa? No, erano fermi Ed è assaltato tutto Dio mio Insicuro questa ci manca Che è successo? Chiamato l'ambulanza Non si può spiegare a qualcuno su TS Sergente? Sì Già risolto l'ambulanza? Non arriva, non c'è Cazzo Non c'è L'ambulanza non c'è nessuno Provo a chiamare di nuovo Non rispondo Non c'è mai un cazzo di medico o nonno Ma? Eh, ma che vuol dire? Ma non si fa nulla Aspettiamo che vanno all'ospedale Potresti per favore comunicare a quei cazzo di cretini che stanno là al carcere Che l'avvocato ha avuto un incidente e che tarderà Sì, dovevano andare l'avvocato Sì, dovevano andare lì Sì, dovevano andare lì Chi c'è lì? Non lo so Vado lì, vado a vedere chi c'è Grazie Ok, rimanete qui intanto Assicuratevi che sono Vada a depredare i corpi per favore Sì, vada a depredare i corpi Michelle, ma c'è un dove andare lì al carcere Sì, sono, era stato richiesto dall'ATM Che ringrazio Cerifo? Cerifo? Cerifo 1, cerifo 2, cerifo 3, cerifo 1 Ok, eccolo Ah, ferma! Era richiesto dall'avvocato per caso? L'avvocato stava richiedendo di poter accedere e quant'altro Ok Perché diciamo che L'avvocato è rimasto ferito nell'esplosione del benzinaio Quindi arriverà un bel po' a ritardo E non ci sono medici in Gita per poterlo aiutare E allora mi sa che si rimana domani Anche perché comunque i prigionieri sono andati a dormire Ok, allora riferisco l'avvocato Cioè, l'avvocato Naturalmente poi Lei tanto sa come contattarmi in qualsiasi modo, giusto? Sì Perfetto, mi contatti Anche se non mi vedono Anche se non mi vede, mi contatti A posto via mail, sì Va benissimo A verci Arrivederci, agente Ciao ragazzi Buonanotte che va via Comunque c'è Il nizio ritmo Microcono disattivato Siamo che non c'è fretta per l'avvocato Metti, prendi la giacca e coprilo per favore Non c'è fretta per l'avvocato Ti hanno stati tutti a dormire Sono andati Ah, però ti sanno fretta Sono andati a dormire Sono andati quelli che non ti versano Cioè, i ragazzi di cinque Sono andati a dormire Quindi l'avvocato va bene Ma lo devo coprire? Sì Quindi domani, ha detto Certo Figurati se si preoccupa Cioè, mi scelta Quella è l'auto? Sì Cioè, è arrivata anche da giù È arrivata Io la vedo dall'altra parte della strada, ragazzi Io la vedo, sì, dall'altra parte della strada Sì, proprio quella Sì, la macchina, sì Ok Quel che potevo fare l'ho fatto Mi potevi dire la dinamica a voi Eravate qui in zona Eravamo qua di fronte Noi eravamo qui di fianco Dietro questa macchina Ok Dietro questa macchina qui Stavamo camminando a piedi Stavamo parlando con i ragazzi Si sono fermati A fare benzina Nel momento in cui Si sono fermati Io e lei stavamo parlando Ci siamo girate E un attimo dopo è esploso tutto Ok Voi avete riportato ferite qualcosa? No, noi essendo dietro la macchina Fortunatamente non siamo stati toccati Ok Allora è solo per loro tre Era una cosa di importante Delle tasche Già, già fatto Perfetto Erano pulite Erano talmente pulite Le tasche Che quando ho preso il giac Non avevano più Cazzo Oddio Elio Ciao Chiamissimo Per un attimo pensavo Che avessero rapito pure Il loro Averi A posto Allora Arriveranno dei medici E vorrà dargli un aspetale Ho già fatto tutto L'intervento Di primo Povero Lio Dite che è meglio andare direttamente in ospedale Sì, sì, in ospedale Ci sono medici Io ho provato a coprire le tue ferite Arriveranno Lì Verano a portare là Non so bravo a fare il primo soccorso Ok Ok Andiamo Certo Andiamo Vedi è pure com'è Ciao Di me Eh, sì Simone Ti modifica Talla voce Tutto il pc Modifica Sì Sì, infatti Comunque Sono nati fuori città E salendo a dormire Sì, salendo a dormire Diciamo Quelli che sono in carcere Così Così Dei lampeggiati Impazzisci No Quindi dietro lo sceriffo Che domani Quando l'avvocato vuole entrare Vedo che Comunica Sì Comunque Tutta una cosa assurda Ragazzi Cioè Veramente una cosa assurda Non sto capendo più Un cazzo Cioè Io Io Boh Boh Cioè Le parole sono Boh Stanno dicendo cose Che Non stanno Nel cielo Nel terra Cioè Parlano di Ergastoli Parlano Ergastoli C'è gente che parla Ergastoli Io non ho capito Un cazzo Cioè Ma non ho detto Che potrebbero Qualcuno rischiare Ergastolo Qualcuno rischiare L'intestitivo Cioè Romulo del Rio Ancora non è L'inno Il pari del Rio Ah non c'era Romulo No non c'era Ancora è in giro Romulo Ok 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 Scusate Mi faccio un attimo Una telefonata Sì Ciao Ciao Boxer Ok Andiamo a vedere Niente Non mi rispondono Eh vabbè Vieni dentro Emily Segniamo Questo livello di spaccio È Livello 30 Farò esperienza Di 143 Perché vado a comprare Sì Vediamo chi sono Oppure Così Dove siete? Qui? Non mi vedo Mi vedi Fa un saltino? C'è che ancora Non sono arrivati Cosa dai Mi non capisco Sì sì Salve Salve Emily Sì No sto cercando un medico Non cercavo Non ci sono medici Non posso lasciare Tre corpi In giro Per la città Ah Una strage Cos'è? Sì In esplosione Vedi 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 Lo metteremo Nella campagna Elettorale Aspetta che segno Zio Aspetta Allora Tre corpi Ah no No i corpi Che devo segnare Scusate Medici Aumento Dei medici Ok Va bene Mettiamo anche questo Nel frattempo Vuoi mettere a rivistare la signorina? Non lo so Mi sembra un po' sconsolato onestamente No Non sono menti buoni Ah grazie Meno male Meno male Meno male Perché sono tutti arrabbiati? Ma che cazzo non so praticamente Cosa d'è? Da 12 e 15 Ah no Ce l'ho io Ce l'ho io Ti aspetta Grazie Quindi Luigi Niente Sta guardando Eh Luigi Lo vedi più tardi Mi ha detto che tra dieci minuti passa Comunque Michelle Vieni la tua qua Passa 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 Eravamo in massimo 10 persone Sono basti a 30 Vado ancora un attimo Ma la cosa riguardo Le resti Ce la teniamo tra di noi Ecco Sì Non bisogna dirlo Troppo in giro Perché si sbaglia la voce Poi c'è gente che ci 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 Fara le feste Questo vado Diciamo che comunque Sarete nella merda Fintanto che non li tirate fuori Da di lì Sì abbastanza Cioè Eravate pochi prima Sarete pochi ancora meno Adesso Grazie Abbiamo ricordato Comunque Sì Lo so Lo so Che siamo in una situazione Di merda In cui non si sa Che cosa fare L'unica cosa da fare È cercare Di salvargli il culo In tutti i modi Già Devo chiamare Pasquale Soprano Ok Sì stavo per toccare 40 È vero Sì stavo per toccare Sì stavo per toccare Rispondi le chiamate Perché non mi arriva No Ho trovato la chiamata È perché stavo chiamando Marghe Ah ok Sì sì E Prima l'avvocato doveva andare Al carcere Avuto un incidente Esploso con C'è avuto un'esplosione Il nostro avarito Ora si trova L'avvocato Sean Doveva andare in carcere Dai Dai Nossi 5 colleghi Eh E Mi è rimasto ferito Durante l'esplosione Qui mi arriverà a ritardo Però Ma devo andare adesso Eh ma aspettate Ricatami sul posto Lì al carcere Lo sceriffo mi fa Tanto i carcerati Siamo andati a dormire L'avvocato potrà venire domani Siamo sicuri Che si è venuto a dormire Sì sì Sono andati a dormire Siamo dormendo 15 14 Guardi un attimo di sopra Emili Manca un'appello Sì sì Infatti lo è detto così Parleranno domani Con l'avvocato L'avvocato potrà presentarsi domani Sì sì Ciao Caglia buonanotte Cazzo di te Quella compaglia Sono stanco Lascia che vanno a dormire Dio Tante cose negative in pochi giorni Sì 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 E' un pollo! E' un pollo! E' un pollo! E' un pollo! E' una lassa! Michelle! Ok, cellion ok. Vabbè! E' un pollo! Ilmeria! Ok. Grazie. Vorna bara farja. No, mi sta piaggiorando e sta rompendo un po' il cazzo. Mi trovo in centrale. Ok. Questa era solo o c'è anche soprano? C'è soprano. Ok. No. Microfono disattivato. Ok. 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 Prossimità. Ok. 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 Sì, oggi mi rifuma tantissimo E' il secondo pacchetto che finisco oggi di suoi sigarette Oh, che balle Oh, Sean, ti fusi, ti sei alzato prima te Oddio mio, santissimo Per fortuna ti sei alzato prima te, Sean Ti è andata bene, strozzo Eh, sì Comunque, Sean Sì Sai che è successo? Gli ho detto io Molto, molto grandirine Eh, va bene Si sono avvicinati da un po' di benzina per far benzina ed è scoppiato in aria La solita fortuna Mi dispiace ciò che è successo, però devo dire una cosa Stai andando in carcia in quel momento di parlare con Con tutti gli aerei, le cinque, i soldi gli arrestati, ecco Però sono tutti a dormire loro, quindi puoi mandarci domani Va bene Quindi lasciati riprenditi domani, vai Vai da loro, sei lontano da Luna che ti vuole sublocarne il sonno Andiamo a vedere Luna È colpa mia, non si preoccupi Perché è una grande testa, ricazzo Sì Va bene E niente Ok Allora, io direi una bella scampagnata di Lourdes, vi va? Eh? Farei un tour Prendere un aereo, direi Farei il tour di Lourdes, me giocando Ragazzi, fermiamoci un secondo Voi siete messi così Anche i due Che vogliamo fare? Per stasera comunque non si succederebbe in nubla E adesso con un pacchetto di sigarette che mi furono, se la faccio più Io direi che andrò a letto Sì, signori, meglio andare a dormire Dormiti sopra, domani sarà un altro giorno, domani sarà un'altra battaglia Che E tutto questo sarà ogni giorno, fine processo, quindi Da quello che ho capito è lunedì sera Lunedì sera? Sì Dovevo fare il funerale di Mike lunedì sera Mi hanno dato una mail a Barton, mi ha detto che gli hanno detto così A che ora sarà? Non si sa, vero? Sarà come sempre adesso alle 21-23 Credo anch'io Ok Dipende, dipende Se potrò contattare i miei clienti per la prima volta domani Voglio almeno 48 ore Perfetto Non preparo una difesa in un giorno Bravissimo Non sono disumano Bravissimo Sì, direi che forse è meglio Quindi io devo andare a dormireci sopra, quindi via vado Buon anno a tutti allora Emily ci porteresti, siamo in cinque Cioè, eh, io ho tre posti Eh, vado a prendere No, 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 no Io vi dico la verità Ah, c'è due viaggi piuttosto? No, io vi dico la verità, mi faccio una camminata Ho bisogno Allora andiamo tutti qui Grazie a me Grazie Sì, tranquillo Grazie Allora ci vediamo domani A domani A domani A domani Maria Ciao a tutti Ciao 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 Un po' più grande, vi vengo a prendere? No, no Grazie Buona serata Ciao a tutti Buona serata Ciao 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 Salve Cosa pensi della scerifferia, Gustavo o Can? Ma perché è ancora Can? No, San, scusami Era Pasquale? Spero no Sì, sì, soprano Cosa pensi della scerifferia? Bella domanda difficile Mi provo un'ottivata Sì, sì, vieni Sì, sì Io stacco Va bene Sì, vediamo Cosa pensi della scerifferia, Gustavo? Gustavo o San? Ho mandato l'email al giudice per RP Adesso vediamo cosa dice Juliet Se mi dà il posto temporaneo da capitano possiamo andare bene, possiamo scoprire qualcosa Sennò Però C'è ancora la live Comunque vabbè Mi stacco la live Devo subito Ciao Vabbè ragazzi Io vi ringrazio per essere visto con me Io so stacco Sono le due Precise Vi ringrazio per essere stati qui Ci vediamo Ci vediamo poi Domani Domani Con un'altra live Domani sarà un altro giorno Una nuova guerra contro questo sistema strano che è successo Stava bene Lo diremo di chiarire Poi Chi lo sa la verità E qual è la vera verità Ci vediamo domani E auguro di una buona serata Nota a tutti Nota a tutti Grazie Ciao Ciao